così iniziamo con l'inno questa è la iniziale e procediamo con l'inno, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno a tutti Vito Parisi Raffaele Calabrese è assente Maria Colamito assente, Carmen Carlucci, Marilisa Mongelli Allora ci sono 5 assenti con 12 presenti Grazie segretario, ovviamente comunico la parte della Consiglia Colamito che mi ha comunicato la sua assenza per motivi di lavoro iniziando il Consiglio Comunale nel primo punto del giorno abbiamo comunicazioni non ci sono comunicazioni notare ma da parte e invito in questo caso alla Consigliera Presidente della consulta giovanile Grazie a Martiello dove deve relazionare in quello che è stato il percorso annuale della consulta giovanile Intanto buongiorno a tutti Come avete appunto sentito sono Grazie a Martiello, la Presidente della consulta comunale dei ragazzi e delle ragazze di Ginosa e Marina di Ginosa Intanto volevo ringraziarti, ringraziarvi per questo invito qui oggi in quanto questo denota il vostro interesse nei confronti dei ragazzi e è una cosa che sicuramente vi fa onore Vorrei dire intanto che questo è il primo anno di attività della consulta quindi è sicuramente servito per gettare le basi, per iniziare a capire come funziona, come si organizzano gli eventi la burocrazia, i tempi della burocrazia e in questo ci è stato sicuramente molto 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 d'aiuto il consigliere Luca Melchiorre senza il quale probabilmente ci saremmo sentiti persi quindi io gli farei un applauso, grazie vabbè, lo ringraziamo e diciamo che durante quest'anno quindi abbiamo organizzato diversi eventi il primo tra questi l'abbiamo realizzato durante l'estate a Marina Liginosa un evento incentrato sul blogging quindi una disciplina che è diventata poco olimpica che riguarda quindi il raccogliere rifiuti mentre si fa sport e questa giornata appunto nel 2 luglio 2023 ha permesso quindi di raccogliere quasi 15 sacchi di rifiuti nel tratto di penita che va dall'idocabiano all'idocassiope a Marina Liginosa è stato un evento molto partecipato e di questo ne siamo stati molto contenti è incentrato insomma sulla salute la salute dell'ambiente e anche il benessere fisico successivamente il 27 ottobre 2023 invece abbiamo organizzato un evento a Ginosa per l'inaugurazione dell'anno scolastico e questo ha coinvolto quindi gli studenti dell'istituto Perrone di Ginosa e durante questo evento c'è stata anche la partecipazione della scuola Gin Mirginosa quindi esibizioni, un torneo di pallavolo e insomma è stata una giornata che è molto piaciuta ai ragazzi per iniziare diciamo l'anno scolastico in maniera serena e invece poche settimane fa abbiamo stato l'ultimo evento diciamo organizzato per quest'anno dalla consulta quindi il 21 e il 22 dicembre è stato organizzato quindi un evento di raccolta di doni per i bambini meno fortunati in vista appunto del Natale e noi non ci aspettavamo diciamo molta partecipazione invece è stato un evento che è stato molto desiderato non solo da ragazzi ma anche da tutti i cittadini quindi ginosini e marinesi e ha permesso quindi a questi bambini che purtroppo vivono delle difficoltà di passare a un Natale più sereno diciamo quindi vi ringrazio ancora una volta per l'invito qui oggi e anche per l'istituzione stessa della consulta in quanto ci tenevamo nei ragazzi a farvi sapere di essere molto contenti di questo nuovo organo comunale infatti questo permette a noi di confrontarci anche se magari abbiamo delle idee diverse dare vita comunque a delle belle cose, di belli eventi e niente vi ringrazio, buona giornata Grazie a lei Presidente io procedo con il secondo punto del giorno che riguarda il progetto di variante PDG e una provometrazione di subcomparto ai sensi dell'articolo 12 puoi rimanere con me se vuole? Certo, approvazione definitiva questo punto non so se vi ricordate l'abbiamo già discusso in qualche altro consiglio forse due o tre consigli fa c'è stato un tempo ovviamente tecnico in cui si è proceduto alla pubblicazione per eventuali osservazioni osservazioni non sono venute e quindi si procede con l'approvazione definitiva ho chiesto anche qui a presenza dell'architetto Gallitelli qualora ci sono delle domande da porre da parte dei consiglieri oppure procede direttamente con l'approvazione e con la direzione di voto apro la discussione se ci sono degli interventi do ovviamente la delibera come detta quindi procediamo con la discussione se ci sono interventi prego ci sono interventi quindi procediamo con la dichiarazione di voto consigliera Carlo C grazie presidente buongiorno a tutti e buon Natale niente il voto il movimento con giro salmone di genosa voterà favorevolmente a questa delibera anche per quelle ragioni che sono già state esplicitate nello scorso insomma quando abbiamo già approvato la prima parte perché e sicuramente adesso diciamo con questa delibera andiamo a dare concretezza ad una diciamo un subcomparto e comunque a un qualcosa di positivo per la crescita economica per il nostro paese grazie grazie consigliere Lucci consigliere grazie presidente buongiorno a tutti allora come stavo accennando presidente in effetti questo è un punto che avevamo già discusso e affrontato chiaramente squisitamente tecnico per cui noi non possiamo che riparci a quella che è la relazione istruttoria presentata dall'ingegner dall'architetto Galitelli e riteniamo insomma che questa variazione sia utile per lo sviluppo del territorio e di conseguenza non ci siamo opposti alla scorsa discussione per cui anche questo in questo in questo ordine del giorno il nostro voto sarà favorevole sia del gruppo di Forza Italia che della consigliera Mongegli grazie consigliere ti consiglio Marchioro grazie presidente buongiorno buongiorno a tutti e a tutti buongiorno anche alla presidente della consulta che oggi ci accompagna nei lavori per consiglio il gruppo per bene voterà favorevolmente grazie grazie consigliere consigliere di vicenda prego in qualità di delegato capigruppo del momento 5 stelle prego grazie presidente anche il gruppo del momento 5 stelle voterà favorevolmente grazie consigliere procediamo con votazione favorevoli unanimità procediamo con l'immediata eseguibilità favorevoli unanimità il punto si ritiene approvato chiedo a tutti i consiglieri visto anche la presenza a cui del architetto Galilelli così lo liberiamo se possiamo già anticipare il punto 8 che riguarda sempre la stessa procedura in merito a un progetto di ACUPI dove anche qui si sono avuti i tempi tecnici per eventuale osservazioni anche qui nessuna osservazione così liberiamo l'architetto Galilelli per gli uffici non so se siete tutti d'accordo ma benissimo allora procediamo con la lettura del punto 8 anche questo è un progetto di non solo definitivo di ACUPI SPA soluzione alternativa all'attraversamento del tratto di acquedotto per Pertusillo prima canna in condispendenza del torrente di Palo in Ago di Ginosa diverto al caso della Lugione del 7 e poco 2013 approvazione della variante urbanistica al vigente PDG ai sensi del coordinato disposto di articoli 18 e 19 del PR 327 2001 articolo 8 e 12 della legge legionale 3 2005 e articolo 16 della legge legionale numero 13 2001 come dicevo anche qui c'è stato un passaggio tecnico dove si legge prima del proporre considerato che nei 15 giorni successivi alla data di scadenza dalle delle soprendicate date di pubblicazione non sono per un riservazione si propone di considerare quanto espresso in premessa e quindi di approvare in via definitiva la proposta di avvento d'oggetto come già letto precedentemente quindi in approvazione in via definitiva a soli figli urbanistici la variante semplificata del PRG di apporre sulle stesse aree interessate all'intervento di quell'oggetto il vincolo ordinato all'esproprio apro la discussione se ci sono interventi procediamo con la dichiarazione di voto ma ci sono interventi consigliera Gallucci prego grazie presidente anche su questo punto il movimento congirosa ma il Gino si voterà favorevolmente perché si tratta di un'opera assolutamente indispensabile e importante per il nostro territorio grazie grazie consigliera consigliera latte anche in questo caso il voto di Forza Italia sarà favorevole stiamo parlando insomma di un'opera di un'importanza notevole per il territorio per cui anche in questo caso trattasi insomma di progetti e diciamo considerazioni molto tecniche per cui noi ci affidiamo a quanto sempre rappresentato dai tecnici dell'ufficio per cui confermiamo il nostro voto favorevole grazie consigliere consigliere Marchiaro grazie presidente il gruppo per bene voterà favorevolmente consigliere Pucenna grazie presidente il gruppo 5 stelle voterà favorevolmente procediamo con la votazione favorevoli un'animità procediamo con l'immediata eseguitività favorevoli un'animità il punto si ritira approvato ringrazio l'architetto Galletelli per la sua presenza procediamo con discussione agli altri punti all'ordine del giorno punto 3 regolamento dell'applicazione dell'imposta municipale propria inu e regolamento generale delle entrate comunali chi lustri punto assessore gigante prego assessore grazie presidente buongiorno a tutti il terzo punto attiene alla proposta di deliberazione numero 117 del primo dicembre 2023 l'oggetto è il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria imu e il regolamento generale delle entrate visto che con delibera di consiglio comunale 26 del 30 marzo 2023 sarà approvato sia il regolamento per l'applicazione dell'imu che quello per le entrate comunali che in previsione della obbligatorietà del prospetto di differenzazione delle aliquote imu di cui l'articolo 1 commi 745 780 della legge 160 2019 opportuno disciplinare nel regolamento imu le riduzioni di base imponibile delle aree edificabili non previste nelle fattispecie prereterminate individuate con decreto del MEF del 7 7 2023 al fine di consentire la prosecuzione dell'applicazione delle agevolazioni e anche che il decreto del segretario generale dell'autorità di bacino distrettore dell'appenino meridionale numero 1213 del 3 12 2021 individua nel territorio comunale sia le zone con rischio idraulico basso medio alto che quelle con rischio idrogeomorfologico medio R2 molto elevato R4 e le aree soggette a valutazione ASV che si è reso necessario chiarire più specificatamente l'oggetto del regolamento generale delle entrate in riferimento alla tipologia delle stesse sia nella parte generale che nell'applicazione delle varie fattispecie nonché adeguare la parte relativa alle modifiche di qui sopra dato atto della volontà di mantenere nei limiti operativi l'invarianza della pressione tributaria sulle fattispecie di qui sopra e di applicare la stessa razio alla totalità delle entrate dell'ente ritenuto quindi con la presente proposta di riapprovare sia il regolamento per l'applicazione del limo che delle entrate comunali acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del dottor Pietro Giancipoli e dottor Pietro Gianpetruzzi dato atto che è stato acquisito il parere dei revisori dei conti positivo si propone di considerare le premesse parte integrante e sostanziali di approvare il regolamento IMU allegato che quindi sostituisce dal primo gennaio quello vigente di approvare il regolamento generale delle entrate comunali allegato che sostituisce dal primo gennaio quello vigente e di demandare quindi al responsabile dell'area tributi la conseguente pubblicazione sul portale del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 13,15 decreto 201 2011 quindi in sostanza è stato praticamente siccome è entrato in vigore anche se poi è stato prologato come applicazione un prospetto cioè negli anni successivi non ci sarà più la delibera di applicazione di determinazione delle aliquoteimo ma ci sarà esclusivamente un prospetto che sostituirà la delibera questo prospetto contiene delle ipotesi tassative predefinite che non si possono derogare quindi non si può andare come prima con la potestà regolamentare articolo 52 dove potevamo applicare delle agevolazioni particolari faccio un esempio l'applicazione delle aliquote agevolate sulle aree sulle case e sui depositi che sono nelle aree rurali a Ginosa nel prospetto che è stato predisposto dal ministero economia e finanze non sono previste queste ipotesi agevolative grazie a Dio c'è stata una proroga cosa abbiamo fatto siccome noi abbiamo introdotto da qualche anno una agevolazione sulle aree edificabili abbiamo ritenuto di toglierla dalla determinazione annuale delle aliquote e l'abbiamo messa nel regolamento in pianta stabile in modo da conservarne l'applicazione altrimenti avremmo perso questa agevolazione per i cittadini quindi cosa abbiamo fatto abbiamo di contro implementato il regolamento IMO inserendo le riduzioni della base imponibile per le zone R2 R4 quindi basso medio alto rischio quindi confermandole come agevolazioni e abbiamo poi riguardato tutto il regolamento delle entrate e l'abbiamo implementato per quanto riguarda tutte queste fattispecie visto che l'abbiamo riguardato abbiamo fatto delle leggere integrazioni e correzioni nei paragrafi che potevamo trovare soprattutto sull'area delle rateazioni l'abbiamo scritto un po' meglio in modo da da rendere ancora più chiaro e applicabile per i cittadini tutto qui questa è stata l'opera dell'ufficio entrate grazie grazie assessore ci sono interventi e consigliere Rucci grazie presidente allora assessore io ho letto il regolamento e volevo chiederle questo nel regolamento legislativo che è chiamato ad attuare la riforma fiscale dei tributi locali l'articolo 30 del provvedimento prevede proprio la possibilità di versare i tributi locali e i comuni attraverso l'addebito diretto in conto agli enti locali viene data proprio la possibilità con un proprio regolamento di ridurre del 5% l'entrata fino a un massimo di 1000 euro per i contribuenti che autorizzano l'addebito diretto si tratta di una misura che prevede proprio la possibilità di premiare i contribuenti che adempiono correttamente e tempestivamente al proprio dovere come mai non è stata considerata questa possibilità all'interno del regolamento e se è possibile siccome ci ha appena detto che il regolamento diciamo non sarebbe più derogabile se è possibile quindi poi adattare lo stesso regolamento alle nuove alle normative e poi per quanto riguarda anche l'Imu sui capannoni industriali poiché adesso il gettito diciamo entra nelle casse comunali piuttosto che statali se vedo che non è stata considerata diciamo questa all'interno del regolamento cioè non c'è una parte che ci parla dell'Imu sui capannoni poi magari se è un oggetto che potremmo affrontare successivamente con le aliquote ne parleremo dopo però mi premeva soprattutto sapere perché non è stato previsto diciamo questa possibilità per il 5% e quindi l'inserimento dell'articolo 30 Grazie consigliere Assessore vuole rispondere prego Allora consigliere Carlucci semplicemente per due motivazioni ben precise la prima è una questione di cassa se noi vediamo quanto è il gettito complessivo dei tributi applicare il 5% significa destinare un'aggevolazione aggiuntiva di 350.000 euro cosa che oggi non possiamo permetterci assolutamente e anche perché poi l'innovazione e la digitalizzazione ci sta portando sul pago PA quindi ci sta portando su un diverso tipo una diversa tipologia di riscossione capisco diciamo il fatto che si potrebbe applicare questa agevolazione però sarebbe anche diciamo lo stesso quella di ridurre le aliquote noi lo stiamo facendo negli anni gradatamente quindi stiamo cercando di ridurre il più possibile tutto quanto e l'abbiamo fatto sugli eredificabili l'abbiamo fatto sulle attività economiche l'abbiamo fatto sui terreni agricoli l'abbiamo fatto sui fabbricati rurali ad uso strumentale l'abbiamo fatto anche sul settore primario del nostro territorio l'unica cosa dove ancora non l'abbiamo potuto fare è sulle seconde case sulle seconde abitazioni non l'abbiamo potuto fare perché purtroppo ci sono state in bilancio delle aumenti corposi derivanti dai rifiuti derivanti da varie tipologie di l'energia la crisi energetica e quindi ci ha purtroppo tolto quasi un milione di euro di risorse abbiamo anche purtroppo un contenzioso pregresso molto forte che ci costringe a tenere bloccate 3 milioni di euro di risorse nel momento in cui ci sarà uno svincolo magari di queste risorse destinati al fondo probabilmente ci penseremo è una buona idea tenendo sempre presente come ho detto prima che il pago PA quindi l'addebito diretto incontro è una modalità che è difficile da implementare negli enti locali per come si sta muovendo la dinamica della riscossione quindi comunque se dovremmo applicare un'aggevolazione lo faremo magari riducendo le aliquote grazie grazie Sero Giante ci sono gli interventi non ci sono gli interventi quindi procediamo con la dichiarazione di voto consigliere Ratti o consigliere Vangeli o consigliere Ratti allora sul regolamento IMU questa diciamo è una storia che è un po' un po' lunga dei nostri gruppi con questa assise l'anno scorso insomma abbiamo riproposto degli emendamenti che via discorrendo tanto dopo ci sarà modo di discutere anche sulle aliquote che abbiamo stiamo per approvare quest'anno bene diciamo quella migliore specificazione per quanto riguarda il regolamento nella parte appunto della rateizzazione che effettivamente nel precedente regolamento non era molto chiaro per i cittadini però tante diciamo sono le situazioni che potevano essere sicuramente migliorate per cui ovviamente il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria è collegato comunque a quelle che poi saranno le tariffe che andremo dopo a votare per cui il nostro voto sarà di non partecipare alla votazione ed abbandonare l'aula grazie consigliere Carlucci prego grazie presidente anche il movimento con Ginosa e Medici non partecipa al voto e abbandona l'aula grazie grazie consigliere consigliere Marchio grazie presidente il gruppo per bene voterà ovviamente favorevolmente fa i complimenti sempre all'assessore e all'ufficio che hanno lavorato incessantemente per portare anche tutte queste delibere che andremo ad approvare oggi sono stati raggiunti dei risultati ottimi anche inserire in pianta stabile le riduzioni IMU per le edificabili con rischio R2 R4 in un regolamento è un passo importantissimo per un ente e penso che non tutti gli enti si possano permettere di fare una cosa del genere per quanto riguarda la laterizzazione ricordiamo che comunque si fa una delibera specifica annuale quindi non rientra in quella di oggi quindi non ci saranno problemi da quel punto di vista grazie presidente grazie consigliere Piccena prego anche il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente e fa i complimenti sia agli uffici che all'assessore per il lavoro svolto grazie presidente grazie consigliere procediamo con con la votazione favorevoli 9 diamo atto che i consiglieri Mangelli Ratti e Carlucci non partecipano al voto e hanno abbandonato l'aula procediamo con l'immediata esegurità favorevoli 9 non partecipano al voto e abbandonano l'aula a tre consiglieri tra cui consigliere Mangelli Ratti e Carlucci il punto si ritira approvato passiamo al punto successivo di discussione quindi tutti i consiglieri prendono il posto il prossimo punto riguarda la determinazione di prezzi di gestione per l'anno del 2024 delle aree inserite nel PEP di Ginosa e Maria di Ginosa e Maria di Ginosa e nel PIP di Ginosa che vi usa la proposta grazie presidente la proposta al punto 4 è la numero 118 del 5 dicembre 2023 l'oggetto è la determinazione dei prezzi di gestione per l'anno 2024 delle aree inserite nel PEP di Ginosa e Maria di Ginosa e nel PIP di Ginosa visto l'articolo 14 del DL 28 283 convertito con modificazioni che dispone che i comuni stabiliscono annualmente con deliberazione prima della deliberazione del bilancio il prezzo delle aree da risinarsi per l'attuazione delle aree PIP e PEP vista la relazione allegata dall'architetto Antonio Gallitelli responsabile del decimo settore area pianificazione ed edilizia in data 512 che è allegata forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento vista la deliberazione dell'aggiunta comunale numero 135 del 26 del 2002 ad oggetto approvazione prezzi delle aree fabbricabili ai fini della tassa sezione ICI per l'anno 2002 visto il decreto in materia di espropi e in materia del tessonico in materia di edilizia vista la determinazione deliberazione del consiglio comunale numero 25 del 30 marzo 23 ad oggetto determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 22 delle aree PEP e PIP vista la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati quindi il FOI nel periodo ottobre 22 ottobre 23 che è pari a un incremento anno del 2% come la tabella legata al presente atto ritenuto quindi di dover procedere alla determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2024 delle aree inserite nel PEP e nel PIP giusta alla relazione dell'architetto Tony Gallitelli dato atto che sono stati acquisiti pareri favorevoli quindi il parere tecnico del Dottor Antonio Gallitelli e quello economico finanziario del Dottor Gian Petruzzi ritenuta la competenza del Consiglio Comunale si propone di considerare le premesse parti integranti di stabilire per le aree inserite nell'edilizia popolare nel PIP il prezzo di cessione relativo indicato nella relazione allegata che fa parte integrante e di demandare agli uffici comunali gli atti conseguenziali al seguente provvedimento è una delibera tecnica di ogni anno che deve precedere il bilancio di previsione e quindi prende atto dell'aumento dell'incremento ISTAT che è stato stabilito dall'Istituto Nazionale che è stato pari al più 2% quindi per il periodo ottobre 22 ottobre 23 chiaramente si è preso l'ottobre perché è l'ultimo indice ISTAT disponibile alla data della delibera quindi intervenendo queste variazioni vi vado a leggere quali sono i prezzi a metro quadro quindi per la localizzazione delle aree quindi ci sono Ginosa Centro Marina di Ginosa il criterio dell'invenizio dell'articolo 37 del decreto 327 barra 01 il valore il valore predeterminato quindi passa da 60,79 euro a metro quadro a 62,01 a metro quadro mentre per le opere di urbanizzazione da 30 a Ginosa da 30,40 a 31,01 a metro quadro e a Ginosa Marina da 21,59 a 22,02 quindi il prezzo totale di cessione delle aree per i piani quindi della zona PEP sono per Ginosa 93 euro a metro quadro circa e per barriere di Ginosa 84 euro a metro quadro mentre per quanto riguarda il PIP quindi zone di insediamenti produttivi la determinazione del valore di indennizio quindi passa da 21,40 euro a metro quadro a 21,83 a metro quadro i costi di urbanizzazione sono determinati fissati in 8,50 euro a metro quadro mediante atto di giunta comunale 365 dell'11 11 2003 quindi pertanto il costo originario salva con guaglio quindi è previsto come abbiamo detto in 8,50 metro quadro al netto delle incidenze per espropri e fatti salvi gli altri costi stabiliti con precedenti atti amministrativi delibere del Consiglio Comunale 5103 e 365 barra 03 grazie grazie Sessone ci sono interventi in medito non ci sono interventi consigliere Bellucci grazie presidente il movimento con Gino sembra religiosa non partecipa al voto su questo punto e danno la aula grazie consigliera Ratti allora il voto di Forza Italia su questo punto sarà di non partecipazione già insomma nella seduta del 30 marzo insomma si era avuto modo di fare le stesse osservazioni e discussioni per cui in coerenza con quanto fatto in pregresso anche questa volta non partecipiamo al voto grazie consigliere consigliere Marchio grazie presidente il voto del gruppo per bene sarà favorevole grazie consigliere Piceno grazie presidente anche il gruppo 5 Stelle voterà favorevolmente grazie consigliere procediamo con la votazione favorevole 9 diamo atto che i consiglieri Carrucci Ratti e Mongelli non partecipano a voto e abbandonano l'aula procediamo con l'immediata eseguibilità favorevoli 9 diamo atto che i consiglieri Ratti Mongelli e Carrucci non partecipano a voto e abbandonano l'aula il punto si ritiene approvato passiamo all'ordine successivo che riguarda punto 5 aliquote IMO anno 2024 dove assessore la proposta grazie presidente allora il punto 5 la proposta è la numero 119 del 6 dicembre 2023 ufficio tributi all'iquote IMO anno 2024 premesso che l'articolo 1,738 della legge 160 2019 dispone che l'imposta municipale propria all'IMU è disciplinata quindi dai combi da 739 a 783 visto che con delibera di consiglio comunale 44 del 31 maggio sono state approvate le aliquote IMO 2023 e quindi le do perlette considerato che la legge 160 dispone all'articolo 1 che al comma 748 la aliquota di base è parerò 05 al comma 750 che la aliquota di base per i fabbricati rurari da riuso strumentale è parerò 01 e i comuni possono deliberarla e ridurla fino all'azzeramento che al comma 751 la aliquota per i fabbricati costruite e destinata dall'impresa costruttrice è fissata pari allo 0,01 i comuni possono anche ridurla o aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento e a decorrere dal 2022 tali fabbricati sono esenti dall'IMU al comma 752 la aliquota di base di arine agricole è 0,76 e si può aumentare fino all'1,06 o diminuirla fino all'azzeramento al comma 753 per i fabbricati riuso produttivo la aliquota di base 0,86 la quota riservata allo stato 0,76 i comuni con deliberazione possono aumentarla fino all'1,06 e diminuirla al 0,76 al comma 754 per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e quelli già dei commi precedenti la aliquota di base è 0,86 i comuni possono aumentarla fino all'1,06 o diminuirla fino all'azzeramento visto il comma 744 che riserva allo stato il gettito derivante dall'immobile ad uso produttivo classificati nel gruppo carastrale D calcolato allo 0,76 visto l'articolo 1 837 della legge 197 che apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge 160 2019 cioè al comma 756 concernente l'aliquota con decreto del ministero delle prime finanze sentita la conferenza stato-città e l'autonomia locale possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui è primo periodo visto il decreto del ministero di economia e finanze del 7 luglio 23 che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria IMO e stabilisce le modalità di elaborazione di successiva trasmissione al dipartimento dato atto della conversione della legge 170 2023 con modificazione del decreto legge numero 132 2023 che introduce l'articolo 6 terra che prevede l'obbligo per i comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote tramite l'elaborazione del prospetto che citavo prima utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF quindi viene portata a decorrere dall'anno d'imposta 2025 in considerazione sia delle criticità riscontrate dei comuni a seguito della fase di sperimentazione e che nell'elaborazione del prospetto nell'esigenza di tenere conto di alcuni rilevanti fatti specie attualmente non considerate dal predetto prospetto spesso acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile quindi sempre il dottor Pietro Giancicoli e Pietro Gianpetruzzi ottenuto il parere dell'evisore dei conti positivo si propone di considerare le premesse parte integrante di apprevere le seguenti aliquote 0,40 per le abitazioni principali di russo 0% per i fabbricati rurali ad uso strumentale quindi D10 oppure categoria A e C con la notazione di ruralità 0,86 per i fabbricati del gruppo cadastrale D ad eccezione del D10 delle impianti e parti fotovoltaici 1,06 per i fabbricati del gruppo cadastrale D quali impianti e parchi fotovoltaici 0,76 per le abitazioni ubicate in zona agricola 0,46 per i locali dei depositi ubicati in zona agricola 0,60 per i fabbricati dei gruppi cadastrali A10 uffici B1 scuole B5 C1 locali commerciali C3 locali artigianali 0,25 per i terreni agricoli quindi chiaramente quelli dal foglio di mappa da 100 in poi e quelli non in possesso dei coltivatori di letto degli IAP perché quelli sono esenti 0,20 per le aree edificabili 1,06 per i fabbricati diversi da quelli precedenti quindi dare atto che questa deliberazione sarà efficace dal 1 gennaio 2024 e verrà pubblicata nell'apposita sezione entro il termine del 14 ottobre 2024 quindi si demanda poi al responsabile dell'area tributaria tutti gli adempimenti quindi sostanzialmente abbiamo molto sinteticamente confermato le aliquote agevolative sulle attività produttive cioè quelle degli uffici locali commerciali e locali artigianali abbiamo confermato l'aliquota notevolmente ridotta delle aree fabbricabili con le riduzioni delle basi imponibili quindi 0,20 più le riduzioni di 20,30 e 40% poi abbiamo istituito per i fabbricati diversi l'abbiamo lasciata immutata mentre per quanto riguarda i terreni agricoli l'abbiamo ridotta allo 0,25 per quelli che non hanno l'agevolazione quindi sarebbero i pensionati o quelli che i braccianti agricoli possessero di terreni mentre abbiamo confermato le agevolazioni non previste nel prospetto che era stato approvato dal MEF di 0,76 per le abitazioni ubicate in zona agricola chiaramente non prima casa e 0,46 per i locali dei posti ubicati in zona agricola chiaramente per dare queste agevolazioni ci deve essere la compatibilità economica con il bilancio quindi non si può applicare ogni anno un'agevolazione generalizzata ma bisogna vedere se le risorse del bilancio consentono l'applicazione ci sono dei parametri c'è un equilibrio che bisogna rispettare e quindi la logica e la razio dell'ufficio tributi del comune di Ginosa da qualche anno è quella di fare i piccoli passi e quindi piano piano di attribuire le agevolazioni in maniera compatibile per non dare dei riscossoni al bilancio quindi conservando anche i vantaggi che fa sì che un bilancio sia in regola grazie grazie assessore ci sono interventi consigliere a luci prego grazie presidente allora assessore io ho visto le aliquote e sinceramente abbiamo avuto un po' di problemi di invio per questione di PEC piena niente ho riscontrato con molto piacere l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale i famosi 12 mila euro che erano stati da me proposti il 31 maggio 2023 nel Consiglio Comunale avevo fatto un apposito emendamento relativo proprio all'azzeramento di questa aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 10 categoria A e C con la notazione di ruralità quindi ho visto questa delibera sulle aliquote e accolgo con molto piacere che evidentemente quell'emendamento seppur di 12 mila euro perché avevo ottenuto anche all'epoca il visto e quindi la compatibilità tecnico contabile eccetera tutti i pareri positivi nonostante dico l'esigua somma di 12 mila euro evidentemente non era un emendamento campato in aria e seppur a distanza di tempo magari quel giorno in quel Consilio Comunale questo emendamento è stato diciamo non discusso e automaticamente bocciato adesso me lo ritrovo in una modifica delle aliquote e non può far altro che farmi piacere perché io penso che quando un'opposizione si fonda quindi su una costruzione di qualcosa ma soprattutto su un'opposizione propositiva anche se questo a volte non viene riconosciuto e magari si pensa che uno debba prendersi necessariamente i meriti io in questo Consilio Comunale ci tengo a dire perché voglio dire la maggioranza riesce a prendersi i meriti come è giusto che sia su tutto ciò che viene effettuato dalla stessa e a volte è giusto anche dare un elogio anche ad una minoranza che magari ha proposto in tempi non sospetti questo emendamento che all'epoca è stato bocciato che nonostante l'esigua somma di 12 mila euro evidentemente oggi apprendo e scopro ripeto con molto piacere che non era una cosa così diciamo senza senso ma non era assolutamente un emendamento campato in aria come anche accolgo con piacere la riduzione da 0,30 a 0,25 per i terreni agricoli sui quali sicuramente si era proposto l'azzeramento perché era possibile però mi rendo conto che per una situazione quindi anche le questioni di bilancio per la parità per tutto quello che c'è diciamo il pareggio del bilancio che tutto ciò che c'è all'interno di un bilancio non sempre si possono fare quindi ci tenevo soltanto quindi a dire e a rappresentare questo e soprattutto perché a volte ci si sente anche accusati di non fare un'opposizione costruttiva di buttare magari anche a mare tutto ciò che una minoranza e io parlo di me in prima persona cerca di portare per il nostro territorio questo è un piccolo risultato seppur minimo piccolissimo che sinceramente mi sento di condividere con voi perché se la maggioranza ha ritenuto opportuno anche a distanza di tempo di prenderlo in considerazione questo non può fare altro che compiacermi grazie grazie consigliere Carlucci consigliere prego si si prego questi sono allora consigliere Carlucci le sue parole mi mi fanno bene perché perché lei anche se non l'ha detto esplicitamente ha elogiato la minoranza lo ha fatto comunque di fatto ha elogiato anche la maggioranza le dico questo faccio questo passaggio perché perché purtroppo nel diritto democratico c'è chi ha l'onere di governare quindi di fare delle scelte e poi c'è chi deve fare delle proposte se il nostro compito fosse quello di esclusivamente di governare non quello di pensare le situazioni allora le potrei dare ragione al 100% però io accolgo le sue parole che sono di pregio con un auspicio che probabilmente con queste belle parole forse questo bilancio oggi lo approveremo all'unanimità questo lo dico perché perché fondamentalmente io sono un organo tecnico come assessore e la maggioranza non è diciamo sorda a quello che si ascolta assolutamente lei ha visto con piacere che abbiamo azzerato i fabbricati rurali strumentali però le volevo dire soltanto che il bilancio non è un qualcosa di assestato ma è un qualcosa di dinamico noi l'anno scorso non abbiamo potuto abbassare tutto abbiamo fatto delle scelte abbiamo abbassato alcune situazioni io purtroppo dal 2018 ho un quadro molto ben chiaro dell'equilibrio del bilancio e quindi vi posso dire con assoluta certezza che ogni anno abbiamo abbassato qualcosa questo lo dicono i fatti lo dicono le carte e quindi ogni volta io mi trovo da parte della maggioranza e della minoranza delle proposte di diminuzione o delle proposte di implementazione o di impiego delle risorse dei capitoli e quindi con la ragioneria dobbiamo cassare alcune perché non si possono sostenere altre le possiamo sostenere e ci sono delle priorità quindi qual è il concetto l'anno scorso non si poteva fare e io comunque invito a guardare il bilancio come nell'ottica futura non si guarda al passato bisogna guardare nel percorso che ci sarà perché questa è la nostra evoluzione l'anno scorso c'era un fondo di riserva molto risiclato mi ricordo la discussione e quindi siccome c'era stato già un utilizzo corposo il fondo di riserva non deve andare sotto il limite dello 0,20% non si potevano utilizzare ulteriori 12.000 euro perché noi siamo sempre stati in grado di applicare delle agevolazioni ma siamo stati sempre a raschiare il barile perché non è che viviamo nell'opulenza ma purtroppo dovevamo franteggiare l'anno scorso una crisi energetica pesantissima che quindi ha mi sa se non erro l'incidenza dei costi energetici dell'anno scorso era di circa 400-500 mila euro il costo il costo di rifiuti le discariche purtroppo non c'è un prezzo calmerato in regione l'umido costa sempre di più il conferimento ce lo fecero fare ad agosto a Manduria invece che a Massafra per far aumentare il costo di trasporto se non ci fossero stati quei costi altro che 12.000 euro avremmo introdotto agevolazioni per ancora di più però noi cerchiamo di trovare l'equilibrio ripeto però ho apprezzato molto il passaggio che lei ha fatto quindi lei ha visto che noi non siamo sordi e siamo riusciti quindi anche per il settore primario del nostro territorio di abbassare le tasse quindi sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali come abbiamo fatto negli anni passati con le attività economiche con gli studi professionali con le attività commerciali artigianali produttive e tutto quello perché il nostro DNA ci porta proprio a cercare a dare ai cittadini queste agevolazioni possibili grazie grazie assessore ci sono interventi non ci sono interventi quindi procediamo con la dedicazione di voto consigliere Aratti o un genio non so chi di due interviene consigliere Aratti prego grazie presidente allora assessore io invece sono molto meno soddisfatta rispetto alla consigliera Carlucci abbiamo diciamo delle visioni un po' distanti il fatto che sia stato diciamo accolto inserito un emendamento proposto appunto nel mese diciamo in primavera dalla consigliera va bene è stato introdotto c'è un piccolo una piccola diciamo riduzione per per quelle categorie però ce ne sono altre che sono sono state del tutto non considerate e dico questo perché se l'assessore mi viene a dire che si fanno piccoli passi chiaramente rispetto a quello che il bilancio e la cassa diciamo consente di fare io qui a questo punto entro in contrasto con quello che viene diciamo sempre esternato rispetto a quello che poi viene realmente fatto diciamo nel bilancio di previsione sentirmi parlare di un'amministrazione che vuole abbassare vuole abbassare le tasse mi sembra una parola mi sembra una parola grossa perché se vogliamo parlare di addizionale IRPEF noi siamo sempre il comune che applica il massimo della percentuale che è consentita dallo Stato quindi appliciamo lo 0,8% e per quanto riguarda invece le le aree edificabili che rientrano nel medio basso e alto rischio idrogeologico in questo caso non è stato fatto a nessun altro piccolo sforzo e quindi quello che noi ci saremmo aspettate di vedere quest'anno di vedere una riduzione sebbene noi abbiamo sempre auspicato proprio l'azzeramento per quei terreni dove non è proprio possibile edificare però perlomeno questa volta ci saremmo aspettati una riduzione percentuale per mostrare diciamo ai cittadini una sensibilità rispetto dei terreni che sono in loro possesso vengono pagate delle tasse però l'utilità diciamo finale di quelle aree non può essere sfruttata per quello in cui loro sono state identificate per cui erano queste diciamo le ragioni rispetto anche al regolamento appunto dell'Imu che non ci hanno diciamo portato ad esprimere un parere favorevole rispetto a queste aliquote quindi il nostro auspicio non è quello di fare dei complimenti alla maggioranza ma è quello di sforzarsi ulteriormente per fare qualcosa in più per i cittadini di certo non lo chiediamo per noi stesse per cui con questo auspicio noi questa volta abbandoniamo l'aula però speriamo l'anno prossimo di poter approvare queste aliquote perché finalmente magari vedono una maggiore riduzione appunto della tassazione a carico dei cittadini tutti grazie consigliere Aratti consigliere Galluccio grazie presidente consigliere Aratti io non ho espresso una totale compiacenza nei confronti delle aliquote Imu volevo sottolineare che comunque c'è stato un emendamento e anche a distanza di tempo che voglio dire parliamo comunque di sei mesi è stato approvato l'emendamento diciamo l'ho fatto all'epoca quindi nel maggio 2023 proprio perché volevo cercare volevo che la maggioranza accogliesse questa proposta di azzerare quindi l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale come anche era stato chiesto di azzerare la percentuale che riguardava i terreni agricoli e ho notato che c'è stata una riduzione allo 0,25 un passo sicuramente quindi è stato fatto anche per venire incontro alle categorie diciamo degli agricoltori e di tutto il settore quindi il settore agricolo e quindi diciamo il mio voto sarà un voto di assenzione quindi il movimento congeloso se non è ginosa si asserrà dall'approvazione di questa delibera con l'auspicio che in futuro si possa comunque sempre di più ridurre per quel che è possibile il gettito anche per tutte le categorie e per sempre incrementare il settore quindi agricolo e soprattutto per quelle situazioni che sono anche e ancora in bilico riguardo all'edificabilità o meno e quindi i pagamenti delle stesse imu grazie grazie consigliere Gallucci consigliere Melchiore grazie presidente gruppo per bene voterò ovviamente favorevolmente e penso che qui in questa delibera sia stato fatto un lavoro enorme enorme perché io sono andato a studiare le aliquote imu che c'erano negli anni precedenti ed è stato fatto un passo avanti anno per anno come dice l'assessore in maniera sostenibile perché so che qualcuno vuole sedere nei banchi nella maggioranza e azzerare tutto da un momento all'altro per ritrovarci di nuovo con 25 milioni di euro di debito e poi arriverà qualcun altro per aggiustare i disastri però noi facciamo le cose programmate le facciamo per bene le facciamo in maniera oculata e non abbiamo problemi a dire non facciamo promesse a destra e sinistra toglieremo tasse qui toglieremo tasse lì questo è nostro fatto il passo in avanti per quanto riguarda le aree R4 tra l'altro non è vero che non è stato ridotto nulla perché c'è stata la base imponibile se sbaglio i termini mi corregga la base imponibile è per le aree R4 AVS che dal 40% è arrivata al 50% quindi una riduzione c'è stata più quella dei terreni agricoli le aree edificabili quindi sono tassazioni che sono già state ridotte negli anni quindi mantenere questo tipo di tassazione nonostante l'aumento dei costi di qualsiasi cosa soprattutto quando ci sono gli enti comunali di mezzo non dico un miracolo però insomma è un lavoro ben programmato e si vede che viene fatto in un certo modo puoi sentirmi dire speriamo che l'anno prossimo vada meglio e poi mi ricordo l'anno scorso che fu presentato un emendamento approvato all'unanimità poi si va in variazione di bilancio per stanzi e risolvi per quella diminuzione dell'Imu e lì invece ci si astiene o non viene proprio approvato mi sembra un po' ipocrita grazie presidente consiglio che c'è una breve grazie presidente il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente ringraziando il lavoro dell'assessore ovviamente degli uffici ci impegneremo per il miracolo e l'assessore magari al prossimo bilancio le chiediamo con un click mille euro a tutti così siamo tutti felici grazie presidente grazie consigliere procediamo con la votazione favorevoli 9 astenuti 1 non presenti in aula e non partecipano a voto 2 con le consiglierate la consigliera Mangelli procediamo con l'immediata eseguibilità favorevoli 9 astenuti 1 non presenti in aula e non partecipano a voto la consiglierate la consigliera Mangelli procediamo al punto successivo lo viene al giorno che riguarda l'approvazione del piano delle allineazioni e valutazione per il triennio 2024-2026 l'uso e premosta l'assessore girante prego allora il sesto punto è la proposta numero 120 del 7 dicembre 2023 quindi un'altra delibera propria deutica l'articolo 58 del decreto legge 112-2008 approvato con modificazione della legge 133-2008 di conversione quindi il piano delle allineazioni e valorizzazione per il triennio 24-26 premesso che l'articolo 58 del 1112-2008 approvato dalla legge 113-2008 di conversione prevede che per procedere al riordino gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni province comuni e altri enti locali ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua redigendo un apposito elenco sulla base nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi uffici singoli beni immobili ricadenti del territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettive di valorizzazione o di dismissione viene così redatto il piano delle allineazioni e valorizzazione immobiliare legato al bilancio di previsione nel quale sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal MEF e dall'Agenzia del Demanio che insistono nel relativo territorio l'inserimento degli immobili nel piano determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile fatto rispetto dei limiti e delle tutelle di natura il piano è trasmesso agli enti competenti quali si esprimono entro 30 giorni dei corsi quali in caso di mancata espressione la pretta classificazione deve essere definitiva la deliberazione di consiglio comunale ovvero di ratifica se tratta di società o enti a totale partecipazione pubblica determina le delestinazioni d'uso urbanistica degli immobili gli elenchi di cui è il comma 1 da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno degli enti hanno effetti dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti di trascrizione gli uffici competenti provvedono se necessario le conseguenti attività di trascrizione in tavolazione e voltura e contro la riscrizione del bene in questo elenco è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni quindi la procedura vista la deliberazione del consiglio comunale numero 12 del 23 marzo 2021 di approvazione dell'elenco dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni bilancio 21-23 considerato che il servizio tecnico ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente sulla base della documentazione presente negli archivi informatici e cartacei risponendo un elenco di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di alienazione e valorizzazione che dall'elenco non contiene previsioni di entrata derivanti dalle alienazioni e valorizzazioni perché è in corso la relativa stima e la valutazione complessiva sarà oggetto di successive previsioni non si richiene quindi la data odierna di dover procedere ad alcuna alienazione né assumere determinazioni relativamente alla valorizzazione quindi visti lo statuto comunale il vigente regolamento comunale dei servizi e degli uffici e il testo unico dell'ordinamento degli enti locali il 267 visto il parere favorevole del tecnico del settimo settore area sua patrimonio e quello contabile dell'area economico finanziaria si propone di tenere le premesse parti integranti di approvare i sensi e gli effetti della legge suscitate il piano dell'elenazione e valorizzazione per il triennio 24-26 di cui era legato la presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale di dare atto che responsabile del settimo settore area sua occurerà tutti gli adempimenti relativi di demandare quindi gli atti conseguenziali e gli uffici comunali conseguenti quindi sono allegati gli elenchi dei terreni e dei fabbricati di proprietà dell'ente quindi del demanio ai sensi come abbiamo detto del comma 1 2 3 4 dell'articolo 58 e quindi come è stato detto nel passaggio della delibera allo stato attuale non è stato previsto di procedere a nessuna alienazione né assumere determinazioni relativamente alla valorizzazione grazie grazie assessore ci sono interventi in merito non ci sono interventi consigliera Carlucci prego sì grazie presidente io vabbè sì magari avevo dovuto fare l'intervento ma giusto una domanda poi anche in dichiarazione sì volevo sapere poi chi procederà alla stima degli stessi beni sarà sempre dell'organo swap questo allora il ventario viene fatto da una società esterna quindi la gestam che ha una convenzione con noi mentre la relativa stima viene fatta dall'ufficio tecnico comunale sì certo sì grazie presidente riguardo a questa delibera il movimento conginosa comunque essendo propedeutica diciamo all'approvazione di un bilancio essendo anche un atto finanziario non parteciperà al voto e abbandona l'aula grazie grazie consigliera consigliera ti prego i gruppi di Forza Italia non partecipano al voto e abbandonano l'aula consigliera Marchiorre prego grazie presidente il gruppo per bene voterà favorevolmente consiglieri Picenna prego grazie presidente il gruppo per bene votare favorevolmente grazie consiglieri procediamo con la votazione favorevoli 9 diamo atto che i consiglieri Mongelli Latte e Carlucci non partecipano a voto e abbandonano l'aula procediamo con l'immediata eseguibilità favorevoli 9 diamo atto che consigliera Carlucci Ratti e Mongelli non sono presenti in aula quindi non partecipano a voto il punto si ritiene approvato ritengo sia possibile di fare una pausa di 15 minuti quindi sono le 11.00 le 11.00 a 21.15 i consiglieri cominciano grazie a tutti Grazie. 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 Riprendiamo il lavoro del Consiglio comunale. Quindi chiedo al segretario di rifare l'appello. Prego segretario. Si sente sì. Allora sono le 11 e 27. Oltre al Presidente del Consiglio, sono presenti Parisi. Diffonso è sempre assente. Dilena, Cossut, Picenna, D'Amelio è sempre assente, Milfa, Bongermino, Melchiorre, Panetta, Ratti, Galeotti è ancora assente, così come Calabrese, così come il consigliere Colamito, Carlucci è presente, Mongelli è presente. Quindi sono ancora 12 i consiglieri presenti. Grazie segretario. Del punto 7, l'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024-2026 e nota del giornamento al documento unico di promozione 2024-2026. Prego assessore per la proposta. Grazie Presidente, la proposta è la numero 121 del 7 dicembre 2023, quindi il punto 7 all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio di previsione finanziaria 24-26, articolo 151 del Tuel e articolo 10 del decreto legislativo 118. E' dalla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 24-26, articolo 170 del comma 1 del Tuel. Premesso che all'articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, riferito a un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali e applicati al decreto legislativo 118, che all'articolo 162 prevede che gli enti locali deliberano normalmente il bilancio di previsione riferito a un triennale, comprendendo le previsioni di competenze di cassa del primo periodo e le previsioni di competenze di quelli successivi. Che è responsabile del servizio finanziario di origine di qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrate di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale pluriannale di previsione e alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate di impegno delle spese. Considerato che il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre e riferito al primo bilancio di previsione, ricordato che in senso dell'articolo 151 le previsioni sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti del documento unico di programmazione e osservano i principi contabili generali applicati, che l'aggiunta comunale con deliberazione del 7-12-2023 ha approvato lo schema del bilancio di previsione e la nota di aggiornamento NADUP di cui è l'articolo 170, verificato che la copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri nei 20 giorni di rispetto del regolamento comunale, visto l'articolo 1,821 che dispone che gli enti di cui al Coma 819 si considerano in equilibrio in presenza di risultati di competenza non negativo, dato l'atto che il bilancio di previsione 24-26 garantisce il pareggio generale rispetto ai equilibri finanziari di cui l'articolo 162 acquisiti i pareri di regolarità tecniche e contabili espressi dal responsabile dottor Pietro Giampetruzzi e acquisito il parere anche dello stesso dottor Giampetruzzi in ordine alla vericità e alla verifica delle previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del 153 Vertuella, comma 4. Dato atto che è stato richiesto e ottenuto il parere dell'organo di revisione, positivo, che poi leggeremo, si propone di considerare le premesse patente grande e sostanziali, di approvare lo schema di bilancio di previsione dell'atto secondo l'allegato 9, di cui si riportano gli equilibri finali, che do per letti, perché sono di vostra conoscenza. Che il saldo corrente, l'equilibrio di parte corrente che viene utilizzato ai fini della copertura degli investimenti preennali è di 2.433.360,48. di dare atto che il bilancio di previsione garantisce il pareggio generale rispetto agli equilibri, di dare atto che, secondo quanto previsto dall'amministratore dell'interno del 22-12-2015, il piano dell'indicato è rialegato al bilancio, di approvare altresì il note di aggiornamento al DUP, di trasmettere i dati del bilancio di previsione alla BIPAP, la banca dati della propria amministrazione, di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile. Quindi, per quanto riguarda la discussione, io leggerò il parere dell'ordine di revisione che ci dà un'idea più chiara di tutti i punti all'ordine del giorno. Per cogliere la premessa che ho fatto prima, oggi è un momento importante, forse è il momento principale per quanto riguarda l'amministrazione di un Paese, e mi fa piacere che i toni che ci sono stati fino ad ora sono stati veramente positivi, e quindi mi lasciano ben sperare per quanto riguarda l'approvazione unanime di questo documento anche sulla scorta del fatto che probabilmente è frutto anche di tutti i suggerimenti e per quanto riguarda la programmazione e quelli che sono stati fatti proprio dai componenti della minoranza presenti in quest'Aula. Quindi, perché ora non dare merito al documento, non alla maggioranza, quindi dare merito al Paese che abbiamo fatto uno sforzo maggiore, e quindi abbiamo recuperato circa sei mesi di ritardo per quanto riguarda gli atti programmatori e quelli contabili, e quindi dare un segnale a questo Paese di unità e di costruttività. Io l'ho lanciato questa proposta e credo che dopo che faremo la discussione vedremo che i contenuti sono sicuramente positivi ed utili a questo Paese, si potrà pensare di fare questo passo insieme. Allora, leggiamo velocemente prima il ripiego generale dell'entrata perché ci sono delle cose che vorrei mettere in evidenza e poi leggiamo la tabella del risultato di amministrazione presunto perché noi abbiamo, oltre che approvato il bilancio di previsione, abbiamo posto già le basi per il rendiconto perché vogliamo fare anche quello molto velocemente in modo da poter vedere l'avanzo e applicarlo al bilancio stesso, quindi nell'ottica di aumentare le risorse disponibili nel più breve tempo possibile. Allora, se guardiamo il ripiego generale delle entrate, vediamo che le entrate di natura tributaria correnti sono aumentate rispetto all'anno precedente da 12.791.118 a 13.183.000. Questo perché nonostante abbiamo ridotto anche quest'anno le entrate, quindi le entrate tributarie, comunque c'è un aumento della competenza, della previsione. Perché? Perché c'è la lotta all'evasione che sta dando i suoi frutti, c'è la politica della moral solution e della radiazione che sta dando i suoi frutti, quindi stiamo incassando di più e quindi questo è importante perché ci permette poi di sostenere i maggiori costi che sono presenti in bilancio. Purtroppo al titolo secondo invece notiamo una riduzione che sono i trasferimenti correnti. Per riprendere il passaggio che ho fatto prima, quando noi dobbiamo sostenere le riduzioni, quando chiediamo a questa assise di abbassare le tasse, dobbiamo anche vedere se c'è la compatibilità. Prima ho fatto il passaggio che il responsabile finanziario, ai sensi dell'articolo 153,4 del Tuel, deve attestare la compatibilità dei conti e l'equilibrio. Ma se lo Stato ci riduce di 800 mila Euro i trasferimenti correnti, diventa difficile. Se poi ci aggiunge agli 800 mila Euro gli aumenti che ci sono sui rifiuti e tutto quello dell'energia, quindi tu alla fine devi fare veramente i miracoli. Infatti se vediamo la previsione di competenza dell'anno scorso, da 7 milioni e 9 siamo passati ai 7 milioni e 100. Quindi quelli 800 mila Euro che potevano essere destinate a ridurre l'addizionale comunale, ad aumentare le manutenzioni, a fare qualche altro passo in avanti per quanto riguarda quello che si diceva prima dei banchi della minoranza, ma anche della maggioranza, si poteva fare se lo Stato ci dava la possibilità di farlo. Ma purtroppo dobbiamo lottare nel recuperare questi 800 mila Euro di riduzioni e li dobbiamo trovare a carico dei nostri cittadini. E quindi non aumentando i ticket, non aumentando nessun servizio a domanda individuale, dobbiamo raschiare il barile, dobbiamo contenere i costi, dobbiamo cercare di essere oculati e quindi cercare di trovare l'equilibrio come stiamo sempre facendo in questi anni. Poi abbiamo l'entrata extra tributare 2 milioni e 766 mila 195, poi un'altra voce positiva, l'entrata in conto capitale. Qua abbiamo quindi finanziamenti intercettati da 11 milioni 726,086 a 14 milioni 981,958. Quindi ci sono 3 milioni e 300 mila Euro in più di entrate in conto capitale che quindi fanno capire che ci sono maggiori opere da mettere in pratica. Per quanto riguarda invece le spese, le spese correnti, quindi nell'ottica di quello che stavo dicendo prima, si diventano stabili. Perché? Perché abbiamo compensato i maggiori aumenti di alcune spese fisse con delle riduzioni di spesa per quanto riguarda gli altri capitoli più politici e quindi da 25 milioni 460,225 del 2023 siamo a 25 milioni 534, quindi sono praticamente immutate. Mentre per quanto riguarda la spesa in conto capitale, quindi le opere che verranno messe in campo nel 2024 abbiamo da 14 milioni 742 mila 734 a 17 milioni 518,774. Quindi quei 3 milioni e 300 mila Euro in più. Andando a guardare la questione delle missioni per andare più nel particolare, vediamo che cosa è accaduto. Per quanto riguarda la missione dei servizi generali, gestione, quindi i costi sostanzialmente dell'ente, abbiamo una riduzione di circa un milione e mezzo di Euro. Quindi passiamo da 8 milioni e 800 mila Euro a 7 milioni e 323 mila 126. Quindi c'è una diminuzione dei costi generali di un milione e mezzo. Quell'opera che abbiamo fatto con i responsabili finanziari ma con tutti i consiglieri comunali della maggioranza proprio per trovare l'equilibrio finanziario. Ordine pubblico e sicurezza. C'è un aumento di 200 mila Euro. Quindi da 934.720 delle previsioni dell'anno scorso abbiamo 1.131.736. Quindi maggiori risorse e spese nell'ambito dell'ordine pubblico e sicurezza. Aumento anche per quanto riguarda l'istruzione è il diritto allo studio. Quindi un aumento di 150 mila Euro circa. Quindi si passa da 5.574.325.49 a 5.702.684.54. Mentre per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali sono le risorse sostanzialmente stabili e 726 mila netti. Le politiche giovanili 206 mila e 250 mila Euro. Il turismo 180 mila Euro. Poi passiamo all'assetto del territorio e l'edilizia abitativa. Qui c'è un aumento di impiego di risorse nel nostro bilancio di 1.450.000 circa. Perché si passa da 2.314.041.79 a 3.780.127.53. Quindi queste sono voci che fanno vedere che c'è un investimento maggiore nelle spese in conto capitale e quindi nella struttura del Paese. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente è un'altra grossa missione, una macroarea importante 1 milione più 1.600.000 Euro di stanziamento. Quindi si passa da 8.600.391.62 a 10.217.092.57. Per quanto riguarda la parte dei trasporti e il diritto alla mobilità sono sostanzialmente stabili a 1.325.300. Il soccorso civile 25.000 Euro. Diritti sociali, politiche sociali e famiglie anche qui abbiamo il maggiore incremento delle risorse impiegate quindi in un aumento di circa 1.800.000 Euro perché si passa da 2.228.489 a 11.012.986.44 Quindi tenendo presente che il nostro bilancio è circa 22-23 milioni stiamo parlando del 50% praticamente del nostro bilancio. impiegato nelle politiche sociali e i diritti sociali della famiglia che chiaramente sono il fondamento della nostra società civile. Sviluppo economico sostanzialmente stabili 38.220 politiche per il lavoro qua c'è un aumento di 30.000 Euro perché si passa da 10.000 a 40.000 Euro. Queste sono delle missioni che sono residuali perché praticamente sono delle funzioni delegate che vengono fatte da altri organismi quindi la regione, la provincia e noi facciamo o da tramite oppure integriamo leggermente in alcune situazioni. Per l'agricoltura ci sono le risorse delegate di 100.200 per l'energia e diversificazione delle fonti energetiche abbiamo un stanziamento di 5.000 Euro nei fondi accantonamenti anche qui abbiamo sempre nell'ottica della prudenza perché ci sono i debiti fuori bilancio i contenziosi in costo le passività potenziali abbiamo aumentato di 350.000 Euro lo stanziamento quindi si passa da 763.144 a 1.107.977 questi qua sono i titoli per le spese per missioni nel nostro bilancio di previsione guardando già nell'ottica del rendiconto quindi all'inizio dell'esercizio 2024 che è importante perché tu puoi stanziare tutti i capitoli che vuoi puoi mettere tutte le risorse ma poi devi scontrarti sulla realtà e quindi vedere se c'è un disavanzo o un avanzo dell'anno precedente perché se ci fosse un disavanzo dovrebbe essere applicato immediatamente al bilancio di previsione e quindi va a ridurre la disponibilità nel nostro caso anche quest'anno abbiamo un avanzo quindi un guadagno tra virgolette del nostro ente che viene poi aggiunto ai capitoli di bilancio quindi la determinazione del risultato presunto al 31 dicembre 2023 parte da 20.862.000 di iniziale che è il nostro risultato di amministrazione poi c'è il fondo pluriannale vincolato che sarebbe quella posta che serve a dividere la competenza delle opere pubbliche che sono a cavallo di due anni di 1.690.228.06 abbiamo entrate già accertate di 27.138.000 uscite per 31.236 quindi si perviene al risultato di amministrazione presunto di 18.454.874 chiaramente essendo stato fatto a dicembre al 7 dicembre manca ancora tutta l'entrata della seconda rata del Limo e anche qualcosa della Tari perché le scarenze sono al 5-6 dicembre quindi fin quando arrivano i mandati vengono accertate le entrate e ci sono altre entrate quindi il risultato di amministrazione secondo me si potrà attestare più o meno su quello dell'anno precedente per ora è 18.255.570 di questo risultato noi accantoniamo 10.6.000 circa sul fondo di credito di dubbia esigibilità che sono quelle poste che intervengono per neutralizzare l'effetto negativo delle riscossioni non effettuate negli anni precedenti quindi residui attivi sostanzialmente poi abbiamo un fondo per di le società partecipate dei 3.071 che era determinato dal bilancio del GAL del 2021 però nel bilancio del GAL del 2022 che è stato approvato soltanto due giorni dopo la chiusura dello schema quindi il 9 dicembre emerge un piccolo utile quindi questi 3.000 euro verranno svincolati perché non è necessario che ci sono poi abbiamo il fondo contenzioso di 3.003.392.47 che invece è una somma che viene determinata dall'ufficio in base alla probabilità di socconvenza dei contenziosi quindi c'è un elenco di contenziosi corposi e che quindi ci costringono a tenere bloccate queste risorse che sarebbero utili per fare tante cose e altri accantonamenti in generale per 519.443 quindi parte accantonata a 14.161.000 mentre la parte vincolata abbiamo in totale una parte di 3.398.526 quindi delle risorse derivanti dall'anno precedente che sono già vincolate per impegni già presi e quindi devono essere messe in campo la parte destinata agli investimenti oltre a quella che è indicata nei capitoli del bilancio di previsione per i capitoli della spesa in conto capitale sono altri 130.379 da aggiungere a quelli precedenti e più c'è un avanzo libero di 565.284 che potrà essere utilizzato per la spesa in conto capitale a partire dall'equilibrio di bilancio quindi dopo il 31 luglio del 2024 quindi anche questa somma si va ad aggiungere quindi prima spenderemo quelli che sono derivanti dell'anno precedente e poi quelli dei capitoli e poi andremo a integrare il primo agosto altri 565.284 quindi anche qui la politica dei piccoli passi si va volta per volta a utilizzare le risorse l'utilizzo della quota vincolata di questo bilancio è di 2.840.203 nel parere dell'ordine di revisione il parere lo leggiamo dalla fine osservazioni e suggerimenti non ci sono criticità ma soltanto osservazioni e suggerimenti quindi in base alle previsioni della parte corrente le ritengono complessivamente attendibili e congrue però bisogna continuare ad essere monitorate costantemente nelle voci più significative quindi IMU, TASI, TARI fondi di solidarietà trasferimenti dello Stato contributi per rilascio permesso a costruire sanzioni per contravenzione al codice della strada questo perché chiaramente se ci sono delle perite di gettito bisogna adottare i provvedimenti per far sì che non ci sia che ci sia sempre l'equilibrio l'organo di revisione quindi in riferimento all'andamento storico delle discussioni continua a raccomandare all'entro un attento monitoraggio adottando azioni più incisive sempre al fine di salvaguarda dell'equilibrio di bilancio adesso bisogna dire a tal proposito che è stato firmato il contratto diciamo con il concessionario che ha vinto la gara e quindi in questo contratto ci sono dei miglioramenti e saranno diciamo importanti per far sì che ci sia una riscossione più oltre al fatto che stiamo digitalizzando abbiamo già mandato le avvisi di accertamento con il sistema SEND che poteva essere anche diciamo prologato ma noi abbiamo ritenuto di cominciare già quest'anno a fare il passo avanti della digitalizzazione e quindi questo ci consente di risparmiare risorse per la spesa di spedizione degli avvisi di accertamento e di essere più incisivi e più veloci anche per quanto riguarda le notifiche e quindi quello riesce perché il nostro obiettivo è quello di accorciare il periodo dall'accertamento alla competenza del tributo perché oggi stiamo accertando il 2018 e quindi 5 anni dopo dobbiamo cercare di ridurre la catena e quindi cercare di aumentare almeno di un paio d'anni nell'ottica del medio e lungo periodo il collegio evidenzia che non sono stati valorizzati gli accantonamenti al fondo contenzioso fondo passività potenziale e fondo debiti fuori bilancio perché prende atto che nell'avanzo di amministrazione ci sono già 3.003.392 anche l'anno scorso ha fatto questa considerazione cioè dicendo se già nel rendiconto mi hai messo già 3 milioni non abbiamo bisogno che ci siano ulteriori stanziamenti perché già bastano quelli che ci sono e non ci sono ulteriori debiti o passività potenziali comunque invita lenti a monitorare costantemente l'evoluzione di tali fatti specie al fine della salvaguardia per quanto riguarda le previsioni per gli investimenti quindi hanno guardato il DUP il programma triennale il cronoprogramma dei pagamenti e il programma amministrativo lo ritengono lo ritengono conforme alle previsioni dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese di investimenti riguardo all'emergenza energetica hanno preso atto che rispetto all'anno precedente negli stanziamenti ci sono circa il 9% in meno in effetti nel 2023 i costi erano schizzati alle stelle ma adesso c'è una leggera riduzione però invitano comunque a monitorare le prezette spese visto il perdurare della situazione emergenziale quindi non si può allargare i cordoni ma dobbiamo stare attenti perché potrebbero sempre aumentare anche perché c'è la guerra in Israele ci sono varie situazioni che potrebbero far alzare il prezzo del petrolio per le previsioni di cassa invita a verificarle in serie di salvaguardi e dell'equilibrio tenuto a conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni per i residui che è la nostra criticità tra virgolette che abbiamo da tanti anni anche se comunque stiamo cercando di ridurre piano piano questa posta e di compensarla con il fondo di crediti di dubbi esigibilità il collegio in ordine alla gestione dei residui invita l'ente all'adozione di misure organizzative tese a migliorare la capacità di riscossione e a rientraprendere specifiche attività di cognitivi e infranuali che vengono già fatte anche al fine di scongiurare prescrizione in perdita di credito che minima la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio noi a tal fine infatti abbiamo istituito un'area proprio per le entrate quindi le entrate tributarie e extra tributarie l'abbiamo fatto proprio nell'ottica di tenere ancora più monitorato il settore quindi un settore a parte che si occupa proprio del monitoraggio invita infine l'ente ad attivare qualsiasi iniziativa utile a smaltire i residui passivi oltre che di intraprendere specifiche attività ricognitive e infranuali poi c'è l'invio alla banca dati che viene fatto nei 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio quindi invitano a rispettare come è stato sempre fatto in tutti gli anni questo termine quindi concludono con un parere completamente positivo sul DUP sulla nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziale per quanto riguarda velocemente il parere do il dato della popolazione che al 1 gennaio 2023 è di 21.869 lo voglio dare perché non l'ho mai detto ma è importante anche sapere di quanti abitanti consta la nostra località nelle domande c'è scritto che l'ente non è strutturalmente deficitario infatti abbiamo l'indice quasi tutti tranne uno quello dei residui positivi non è in disavanzo e non è in discesso finanziario in riferimento allo sblocco della leva fiscale come abbiamo approvato prima c'è una diminuzione delle aliquote quindi della pressione fiscale non è non è stato chiesto per il terzo anno consecutivo l'anticipazione di liquidità a breve termine perché non abbiamo debiti sono state pagate tutte le fatture fino alla data dell'approvazione del bilancio e la tesoreria si è chiusa circa il 18 dicembre e riaprirà intorno al 10 gennaio quindi le uniche fatture che ci potrebbero essere da pagare sono quelle che sono arrivate alla fine dell'anno però sono state pagate tutte l'ultimo giorno quindi non ci sono fatture per quanto riguarda i tempi di pagamento è importante dire che l'anno scorso avevamo 9,89 che sono sempre un ottimo risultato quindi i 30 giorni di legge comunque vengono portati a 9,81 quest'anno siamo a meno 3 giorni di pagamento meno 3 vuol dire che paghiamo praticamente il giorno stesso in cui viene presentata la fattura questo è un grandissimo risultato dei nostri uffici comunali bisogna dare merito perché se si paga è molto semplice il più comune cittadino in mezzo alla strada mi dice sempre questa cosa perché forse l'avete il risultato migliore il risultato più importante che c'è dice io so che se presento una fattura al comune mi viene pagata il giorno stesso mentre prima dovevo fare tante di quelle cose dovevo bestemmiare tanti giorni questa volta invece si riesce a pagare tutti quanti il giorno stesso merito degli uffici dell'organizzazione delle risorse e di tutti quelli che fanno parte di questa procedura noi che cosa abbiamo fatto comunque nell'ottica di una cautela abbiamo accantonato scrivendo che abbiamo un giorno di pagamento giusto per far uscire una posta comunque di copertura abbiamo accantonato 74 mila euro circa per il fondo di garanzia dei debiti commerciali nell'ottica anche di quelle fatture che potrebbero essere arrivate dal 20 dicembre al 31 dicembre e quindi abbiamo una piccola risorsa per pagare queste fatture l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione lo sapete tutti che la prima volta io almeno non mi ricordo ho cercato di ritrovare questo dato ma noi abbiamo sempre rispettato i termini perché erano sempre stati prologati durante i periodi quest'anno siamo riusciti a farlo grazie a voi grazie anche ai vostri lo voglio ripetere perché mi ricordo bene le parole questa era la consigliere Aratti che lo disse in maniera molto esplicita devo dire la consigliere Aratti che l'ufficio hanno rispettato vi hanno ascoltato io sono stato diciamo vicino a loro per far sì come tutti quelli della maggioranza però come diceva prima la consigliere Carlucci quando c'è il merito di qualcuno bisogna metterlo in evidenza e quindi mi aspetto che questo sia un merito importante visto che è anche un risultato storico da parte della nostra cittadina che sia anche votato in maniera giusta questo documento di bilancio che è del paese non è della maggioranza lo ripeto ancora una volta per quanto riguarda le verifiche degli equilibri i revisori dei conti dicono quello che hanno scritto nel rendiconto nel parere del rendiconto del 2022 chiaramente un anno fa no meno di un anno fa sono sei mesi fa il 2 maggio 2023 adesso ci sarà il nuovo rendiconto quindi dicevano che c'è una quota vincolata dei mutui di 340.000 euro che per far capire bene che cos'è questa quota sono tanti residui diversi che derivano da tanti mutui diversi e che siccome derivano da tanti capitoli diversi da mutui diversi da anni diversi da diverse devoluzioni fatte negli anni bisogna ricostruire insieme precisamente da dove derivano nei capitoli e quindi per svincolarli e dire alla cassa depositi e prestiti di devolverli in maniera diversa per fare delle nuove opere o per coprire maggiori costi di altre opere che sono in corso perché ci sono purtroppo anche gli aumenti dei costi per le opere pubbliche debiti fuori bilancio l'anno scorso erano 60 mila euro vediamo quest'anno quanti ce ne sono però rispetto agli anni precedenti che erano in una media di 300-400 mila euro adesso abbiamo delle somme veramente non consistenti residui attivi continuano ad essere forti quindi erano 31 milioni 239 ripeto dobbiamo vedere il rendiconto attuale per capire ma siccome la riscossione è aumentata è probabile che i residui attivi saranno diminuiti nell'ottica della contabilità finanziaria gestione dei residui passivi anche qui erano ridotti ma sono sempre 14 milioni 144 anche questo io credo che sarà ridotto in maniera consistente perché ci sono state parecchie opere che sono state completate quindi sono stati spesi parecchi soldi quindi dai capitoli in conto capitale si prevede anche questa ma per valutarlo in maniera compiuta bisogna vedere il rendiconto mutui anche qui prendono atto del mutuo ancora residuo l'unico debito che abbiamo 4 milioni 436 ed è una somma diciamo bassissima tenendo presente che noi abbiamo un bilancio di 20 milioni e che quindi possiamo avere interessi per il 10% che sono 2 milioni quindi abbiamo una capacità di indebitamento importante che adesso dovrà essere tenuta in debito conto perché riducendo i debiti a zero si può fare un nuovo piano di indebitamento e quindi per finanziare le opere pubbliche che questo paese merita fondo credit di dubbi esegibilità l'accantonamento di 11 milioni prima avevo detto che era 10 milioni e 6 nel rendiconto presunto quindi si sta riducendo perché c'è una discussione maggiore buongiorno poi abbiamo fondo contenzioso passività potenziali quindi era 2 milioni 494 l'anno scorso ci sono altri 500 mila euro messi da parte nel 2023 quindi ciò vuol dire che è arrivato qualche altro contenzioso corposo e quindi ci sono ricordo 1 e 2 milioni e 2 che ci toglie circa 600 mila euro di risorse prendeva atto del 981 di tempi di pagamento che erano 21 e 22 come ho detto prima siamo arrivati a 0 il collegio quindi dava risultato favorevole per quanto riguarda questo questo discorso prende atto del fondo dell'avanzo libero di 165.284 e andando avanti la cassa sempre alla data del 7 era 3.249.603 mancano gli ultimi pagamenti che sono stati fatti fino al 18 dicembre e tutti gli incassi dell'Imo della seconda data che sono circa 2 milioni quindi secondo me più o meno la previsione che ho è che alla fine dell'anno ci saranno intorno ai 4 milioni di euro in cassa quindi anche per quest'anno non abbiamo utilizzato l'anticipazione di tesoreria non abbiamo pagato interessi sull'anticipazione di tesoreria quindi un altro grosso vantaggio rispetto agli anni passati e possiamo garantire probabilmente di non utilizzarla nemmeno nell'anno 2024 perché avendo 4 milioni in cassa avendo pagato tutte le fatture vecchie non abbiamo da pagare che quelle nuove con gli incassi nuovi per quanto riguarda le entrate dei titoli e delle spese ve le ho già dette prima il fondo pluriannale vincolato vi ho spiegato che è un fondo che consente di fare la competenza quindi di mettere in competenza quello che nell'anno 2023 di spostare la competenza delle opere in corso 23-24 nell'anno successivo quindi siccome il fondo pluriannale del 31 dicembre 22 era di 1.690.000 e quello del 2023 di 2.364 vuol dire che ci sono più opere in corso perché è aumentato andando avanti gli equilibri che abbiamo detti prima la verifica delle coerenze e delle previsioni sono ritenute quindi da parte dell'organo di revisione su tutti gli strumenti di programmazione quindi abbiamo la questione del NADUP quindi la nota di aggiornamento coerente il DUP contiene anche la coerenza con le previsioni di bilancio il programma di trenare delle opere pubbliche contiene il programma e tutte le opere quindi è coerente anche con i dati del bilancio programmazione di trenare dei fabbisogni qui abbiamo quindi si è passato al PIAO il PIAO è quel documento che viene fatto nei 30 giorni successivi alla provazione del bilancio quindi il 31 gennaio e che consente di determinare la soglia di spesa per le nuove assunzioni e quindi quello consente di fare il piano delle nuove assunzioni quello delle vecchie assunzioni è stato praticamente completato con il concorso che è stato bandito il 27 si è chiusa la procedura delle domande quindi sono state fatte tutte le domande adesso vedremo quindi ci sarà sicuramente una preselettiva e dopo una selezione prevista dal bando quindi anche il concorso siamo riusciti a farlo per i profili tecnici e informatici per i profili tecnici scusate per quanto riguarda invece gli amministrativi e l'informatico siamo riusciti a prendere gli altri graduatori anche nell'ottica del fatto che la regione ha approvato all'unanimità una legge che dice che dobbiamo per forza prima utilizzare i graduatori esistenti e quindi non potevamo bandire un concorso se prima la regione non ci diceva se c'erano dei profili disponibili per quanto riguarda quello che ci serve nella pianta organica per quanto riguarda l'attendibilità e congruità delle previsioni anche qui abbiamo i dati coerenti non ci sono praticamente delle differenze rispetto all'anno precedente tra virgolette solo l'IMU che c'è una differenza di 47 mila euro in meno poi abbiamo per l'evasione tributaria vi do un dato sono dell'IMU circa 963 mila euro più le sanzioni che sono gli avvisi di accertamento che sono stati spediti ai cittadini sono quelli che non hanno pagato per quanto riguarda la Tari sono circa 500 mila euro però nel bilancio abbiamo apposto una voce prudenziale di 100 mila euro perché facciamo sempre così perché sulla Tari c'è più difficoltà nella riscossione quindi per evitare di creare nuovi residui attivi scriviamo una previsione inferiore perché è più coerente con quello che si incassa realmente dalle avvisi di accertamento per i permessi a costruire è stata impiegata la risorsa di 800 mila euro circa metà sulla spesa corrente metà sulla spesa in conto capitale per quanto riguarda le sanzioni amministrative del codice della strada la previsione è stata aumentata perché ci sono state più violazioni del codice della strada c'è la ZTL e ci sono anche un aumento per quanto riguarda le sanzioni nel nostro territorio però bisogna dare anche un'altra informazione importante cioè che quello che viene riscosso dalle sanzioni viene impiegato proprio per l'articolo 208 e l'articolo 142 per la segnalettica stradale per la sicurezza la videosorveglianza quindi ci sono c'è il pro e il contro c'è quello che viene tolto dalle tasche dei cittadini che trasgrediscono alle regole viene impiegato per far sì che tutta la collettività ne abbia un vantaggio quindi c'è comunque una congruità per quanto riguarda questo i proventi dei beni dell'ente sono sempre mutati gli affitti di 25.000 euro altra tabella importante i proventi dei servizi pubblici sono praticamente quei servizi a domanda individuale che vengono sono oggetti della delibera che viene fatta propedeutica al bilancio qui noi abbiamo un costo complessivo dei servizi a domanda individuale bagni pubblici impianti sportivi messe scolastiche parcheggi colonie estive servizi cimiteriali e uso del teatro di 1.067.000 noi ci mettiamo il 41% di risorse no scusate il 61% dal bilancio comunale e chiediamo soltanto ai cittadini il 39,69% quindi chiediamo una copertura inferiore chiaramente per conservare le stesse tariffe degli anni precedenti non le abbiamo aumentate abbiamo dovuto mettere più soldi dal bilancio questo è sempre quel passaggio che vi facevo prima perché prima l'anno scorso non erano un milione ma erano molto di meno erano circa 600-700.000 euro e quindi quei 300.000 euro in più li abbiamo presi anche dal bilancio nonostante ripeto quei milioni trasferimenti di 800.000 euro che pesano tantissimo quindi i bagni pubblici costano 50.000 euro ma non prendiamo nessun ticket gli impianti sportivi 105.000 euro anche qui non prendiamo soldi le smenze scolastiche 600.000 euro e prendiamo soltanto 160.000 euro perché il ticket è bassissimo è sempre quello di tantissimi anni fa parcheggi 41.000 euro il costo 200.000 euro di previsione di entrata quindi i parcheggi nonostante la tariffa è sempre quella servono a compensare anche gli altri costi che non vengono riscossi per quanto riguarda gli altri servizi e domande individuali consentono pure di fare le colonie estive per gli anziani le terme e tutto quello che ne deriva 55.000 euro perché qua loro pagano soltanto 7.000 euro di ticket una contribuzione bassissima per continuare a vivere quindi gli anziani sono una parte importante del nostro territorio poi abbiamo i servizi cimiteriali 210.000 euro di costo e qua prendiamo solo 55.000 euro quindi anche i parcheggi servono a compensare questo disavanzo l'uso del teatro comunale prendiamo soltanto 1.000 euro perché il ticket è veramente basso e il costo del servizio di pulizia di apertura è di 6.000 euro quindi l'organo di televisione lo dice espressamente prende atto che l'ente anche quest'anno non ha aumentato le tariffe dei servizi quindi è importante cerchiamo di dare tutti insieme maggioranza e minoranza questa informazione corretta al cittadino anche sui social diciamo che non sono state aumentate le tariffe e che lì mi è abbassata e che anche gli aumenti sulle eredificabili della base imponibile per quelle R4 quelle dove c'è rischio ideologico è aumentata al 50% come diceva prima un consigliere della maggioranza fondo crediti di dubbi esigibilità è corretto quindi è stato utilizzato per quanto riguarda le leggi quindi c'è la media semplice delle riscossioni degli ultimi 5 anni le spese dei macroaggregati la spesa del personale rispetto ai limiti diciamo che il limite di spesa dell'incremento anno secondo la tabella del ministero è di 611.568 quindi in teoria potremmo spendere altri 611.568 per il personale ma dobbiamo vedere prima i pensionamenti e dobbiamo vedere la compatibilità col bilancio mi piace dirvi che stamattina prima del consiglio comunale dalle 8.30 i revisori dei conti hanno esaminato un altro documento che è molto importante il documento è l'ipotesi di accordo quindi l'intesa con i dipendenti sulla produttività e sul contratto nuovo quindi anche quest'anno siamo riusciti ad approvare il nuovo contratto normativo dei dipendenti perché noi come diciamo sempre valorizziamo il personale lo valorizziamo sia sotto forma giuridica e normativa che sotto forma economica l'anno scorso abbiamo destinato vi leggo il parere dei revisori 122.625.000 euro per l'indemnità di comparto e le progressioni orizzontali che colpiscono praticamente tutti i dipendenti quest'anno abbiamo messo altri 188.775.68 quindi in pratica ci sono 26.700 euro per le progressioni economiche all'interno delle aree che sono importanti nell'ottica della valorizzazione quindi il dipendente si sente più motivato si forma e quindi dà di più alla collettività l'indemnità di risaggio abbiamo previsto l'indemnità di rischio di maneggio valori l'indemnità di turno 41.000 euro reperibilità 14.000 euro poi abbiamo compensi specifiche responsabilità cioè quelli delle categorie C che vengono impiegate dal responsabile dei settori per fare delle specifiche responsabilità importanti quasi da responsabile questo l'abbiamo aumentato a 42.328 perché è giusto che anche chi ha una categoria inferiore debba essere premiato dello sforzo che fa nella sua autonomia del lavoro sono molto orgoglioso di questi risultati perché questi sono soldi che non sono scontati vengono destinati dall'amministrazione vengono scelte queste somme vengono destinate per quanto riguarda con la contrattazione collettiva di questo ringrazio il segretario comunale che è il capo della delegazione trattante che ha curato la trattazione con i sindacati quindi abbiamo fatto una contrattazione importante che garantisce i dipendenti con il nuovo contratto normativo abbiamo garantito gli aumenti e gli scatti salariali previsti dal contratto in più abbiamo destinato in aggiunta 188.775 di cui molte risorse per le persone che non hanno la responsabilità quindi perché c'è il responsabile che ottiene l'indennità di comparto che viene coperta e poi ci sono i dipendenti di categoria C che invece possono partecipare alla produttività e alla specifica responsabilità quindi verranno coperte ancora più persone in più abbiamo garantito anche le progressioni orizzontali anche quest'anno e quindi quell'aumento sempre di stipendio che a rotazione viene attribuito ad ogni dipendente è importante che tutti i dipendenti sappiano che l'amministrazione è dalla loro parte perché loro sono la struttura e il fondamento di questo ente io come assessore alle risorse umane sono molto soddisfatto del loro impiego chiaramente adesso con la programmazione che è stata fatta l'anno precedente ci saranno nel Piau gli obiettivi quindi gli obiettivi è giusto che ci siano perché quando si dà qualcosa poi bisogna ricevere in cambio anche questo risultato ed è importante metterlo in evidenza alla collettività che ci sta seguendo da casa che quindi è tutto quindi le risorse totali regolate e non regolate dal contratto sono 311.400 euro che sono una bella somma ritornando alla scusate questa digressione però era importante per quanto mi riguarda fondo di riserva abbiamo 92.000 euro quindi lo 0,20 noi abbiamo lo 0,36% di risorse quindi abbiamo un fondo di 92.000 di riserva che è importante nell'ottica anche di quello che può accadere durante l'esercizio i fondi li abbiamo detto riserva di cassa abbiamo altri 150.000 euro che sono previsti dalla legge fondo debito di garanzia ve l'ho detto prima i 74.675 per gli organismi partecipati che poi parleremo dopo abbiamo detto che il GAL ha approvato il bilancio in ritardo quindi comunque era inutile quindi tutti gli organismi partecipati sono inutili tranne le colturistiche fallita e quindi chiaramente non ci consente ad un accantonale delle risorse la farmacia comunale ha avuto un risultato utile di 91.111 quindi il 49% viene messo in bilancio ed è importante anche per coprire alcune misure spese in conto capitale come abbiamo detto le entrate sono 14.700 e le uscite 17.518 perché c'è il fondo pluriannale vincolato che va a coprire con le risorse dell'anno precedente abbiamo delle macchine ancora in leasing in locazione finanziaria di 60 mesi con le macchine nuove 4 in dotazione alla polizia locale 1 i servizi sociali l'indebitamento come ho detto prima abbiamo una buona capacità perché abbiamo ridotto l'indebitamento allo 0,57% quindi è diventato quasi 0 l'indebitamento e quindi come tale come ho detto prima possiamo programmare un nuovo indebitamento ho detto tutto il passaggio sul comitato di frazione questo ho dimenticato il comitato di frazione non vedo in aula la presenza della presidente come avviene spesso probabilmente ha avuto influenzata volevo dire che qui c'è stato un miglioramento per quanto riguarda il parere perché il parere del 26 maggio 2023 quindi circa sei mesi fa il comitato marinese aveva espresso un parere negativo con cinque voti negativi e aveva praticamente parlato di un concetto di democrazia partecipativa diretta che era stato totalmente disatteso e quindi è una cosa molto un'assenza di ascolto relazione comunicazione dell'ente pubblico comunale sulle varie istrutture pubbliche richieste dei cittadini quindi questo era un parere che era abbastanza pesante da parte del comitato a distanza di soli sei mesi devo prendere atto che il comitato marinese ha visto gli sforzi della nostra amministrazione quindi in questo senso sicuramente gli assessori marinesi il nuovo assessore Marco Lielli il vice sindaco Daniele Sanzolini i consiglieri comunali Desiree Milfa Bongermino delegato sindaco di Genosa Marina hanno sicuramente avuto un rapporto migliore ancora maggiore quindi più vicinanza rispetto a questo comitato e quindi sicuramente il fatto che i negativi siano soltanto 3 su 5 è importante vuol dire che c'è un miglioramento non c'è più questo discorso della mancanza di democrazia diretta ma vi leggo il parere che praticamente è un io lo chiamo un'osservazione un suggerimento e quindi ringrazio il comitato di frazione proprio per averci dato questi altri spunti che con un bilancio programmato sia mesi prima sono ancora più facili da ottenere quindi è più è proprio nell'ottica di questa costruttività la parte dei pareri che noi possiamo andare avanti quindi benvengano queste queste questi e queste osservazioni perché il parere si deve dare diciamo su un risultato contabile quindi non può essere che delle osservazioni visto che sono non sono numeriche ma sono discorsive quindi essere a conoscenza di un bilancio in ordine quindi prendono atto che il bilancio in ordine fa molto piacere se si comprende anche il grande sacrificio e il lavoro dei vari uffici e responsabili per ottenere e mantenere il pareggio e l'equilibrio del bilancio fa piacere che il comitato ha capito bene come funziona il bilancio nell'ultimo ventennio per Marina di Ginosa la programmazione finanziaria e contabile è stata poco longevirante per quanto concerne la costruzione di immobili strutture sportive ricreative al chiuso questo è un discorso degli ultimi vent'anni benissimo tranne per il cimitero marinesi inaugurato nel 2003 ancora oggi al limite del numero di loculi cellette per la scuola dell'infanzia finanzata dal PNRR in fase di progettazione e esecuzione l'ex tabacchificio trasferimento a titolo gratuito e l'ex scuola dell'infanzia in via Baldaria attualmente utilizzata dalla polizia locale si precisa inoltre quanto segue si deve assicurare ai cittadini marinesi e ai diversi organismi sociali e di partecipazione nella conoscenza dei contenuti contabili e finanziari con nuovi metodi partecipativi per coinvolgere la frazione marinese nelle scelte del comune di Ginosa bilancio partecipato tra virgolette l'obiettivo del comitato è quello di far incrementare risorse umane ed economiche per potenziare servizi al cittadino residente oltre che all'ospite estivo amministrativo e sanitario si devono prevedere maggiori risorse per la lotta all'abusivismo edilizio commerciale al distesso idrogeologico a rischio incendio boschivo ed ecolo urbano quindi per rassicurare il comitato marinese nei prossimi incontri che faremo troveremo insieme un nuovo metodo partecipativo perché quello che vuole il comitato è che si assicuri una maggiore conoscenza dei contenuti contabili e finanziari quindi io in prima persona con gli altri componenti dell'amministrazione ci rendiamo disponibili a vedere insieme quale può essere un nuovo metodo partecipativo che sia importante per far toccare con mano questi capitoli del bilancio l'obiettivo è comune quello di fare incrementare le risorse umane e le economiche le risorse umane sono probabilmente dipendenti del nostro ente quindi abbiamo un piano occupazionale che è valido e verrà applicato subito da gennaio per quanto riguarda le risorse economiche e la riscossione cercheremo di migliorare ancora di più la macchina amministrativa della riscossione senza chiaramente vessare il cittadino potenzare i servizi al cittadino residente questa è la nostra ottica quindi di creare dei maggiori servizi per quanto riguarda maggiore risorse l'abusivismo edilizio e commerciale probabilmente l'abusivismo edilizio non vedo che ci sta in questi anni forse è qualcosa che deriva dal passato per l'abusivismo commerciale ricordo con piacere la polizia locale che durante l'estate ha più volte sgomberato il viale il cosso da Viale Ionio da quegli extracomunitari che non avevano la licenza quindi voglio dire ci sono dei passi avanti faremo di più chiaramente di concerto con le forze dell'ordine che sono deputate per norma che sarebbe la guardia di finanza a fare queste situazioni di controllo per il distesso idrogeologico ci sono dei piani comunque che sono importanti che sono stati messi a rendis quindi aspettiamo che ci siano i finanziamenti perché come ben sapete quelli sono finanziamenti statali e per quanto riguarda l'incendio boschivo ricordo bene che in bilancio esiste la posta della protezione civile per quanto riguarda questo e quindi abbiamo un impiego di risorse per questo settore qui forse possiamo fare di più anzi speriamo che ci siano meno incendi per il decoro urbano impiegheremo chiaramente le risorse che ci sono in conto capitale come ho detto prima l'avanzo in conto capitale per far sì che ci sia un maggiore decoro grazie grazie assessore ci sono intendenti in merito consiglio che procede sì non ho visto la mano alzata prego prego grazie presidente allora innanzitutto volevo segnalare che non ha almeno io personalmente non ho ricevuto la relazione del comitato di frazione via PEC quindi non sono gli altri consiglieri ma io non sono a conoscenza diciamo di quello di quanto ha detto dall'assessore allora per quanto riguarda il bilancio di previsione assessore io volevo volevo spendere ovviamente due parole con una serie di domande o comunque precisazioni allora lei prima ha parlato della dello strumento SEND che in realtà è uno strumento molto importante che potrebbe aiutare lo stesso ente comunale a ridurre i costi delle spese postali infatti ovviamente questo strumento permette di utilizzare le PEC e quindi la notifica di cartelle di sanzioni amministrative verranno effettuate tramite ha prima indicato e detto che effettivamente si è già iniziato con l'utilizzo di questo strumento anche perché nel frattempo è stato anche realizzato il cosiddetto l'INAD quindi l'indice proprio nazionale dei domicili digitali questo sicuramente quindi servirà a lente per ridurre gli stessi costi dei servizi postali che magari da ultima determina del 310 2023 ammontano più o meno a circa 30.000 euro però ovviamente in futuro questo potrà essere un risparmio notevole anche per il nostro ente e il diciamo il problema tra virgolette più importante di questo bilancio che è stato rilevato anche da lei stesso assessore riguarda proprio i residui quindi i passivi attivi e tutte le azioni e gli strumenti che lo stesso ente dovrà porre in essere per cercare quindi di ridurli al massimo e quindi contravvenire a quella lotta all'evasione fiscale nel 2022 però volevo soltanto rilevare che solo 4 comuni pugliesi si sono attivati per inviare le cosiddette segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate cioè in realtà questo era uno strumento proprio per evitare il cosiddetto contrasto all'evasione fiscale e il recupero proprio dei tributi non versati tra questi comuni troviamo Bari, Ugento, Trani e Palagiano praticamente la cosa importante era che mandando queste segnalazioni qualificate quindi di concerto con l'agenzia delle entrate si è perso proprio la possibilità di ricevere il 50% dell'imposta recuperata quindi chiedo se per l'anno 2023 questo strumento possiamo insomma valutarlo e anche quindi diciamo se è stato previsto nel 2023 e anche ovviamente per i successivi anni le anni a venire quindi praticamente tramite questo di concerto con l'agenzia delle entrate quindi inviando queste segnalazioni qualificate c'è la possibilità per il Comune di recuperare il 50% dell'imposta che verrà poi successivamente recuperata quindi chiedo innanzitutto questo sempre alla luce ovviamente della trasparenza e del bilancio partecipato collegato anche a questi strumenti di contrasto all'evasione fiscale che rappresenta diciamo l'osservazione principale anche del revisore dei conti dove appunto si sollecita il Comune e questo potrebbe essere uno strumento importante inoltre la legge di bilancio 2023 dà proprio la possibilità ai sindaci di applicare in maniera autonoma eventuali sanatorie di cartelle e multe infatti per da prevederlo è l'articolo 3 che assegna ai Comuni di approvare delle definizioni agevolate che prevedono la riduzione dell'ammontare dei tributi le esclusioni o la riduzione dell'interesse e delle sanzioni quindi il classico saldo estrarcio diciamo per chi entro in termini non inferiore a 60 giorni adempia al pagamento di tasse non versate in precedenza tipo se è possibile magari applicare ovviamente questo va applicato in condizioni particolari ad esempio si potrebbe pensare di applicarlo successivamente per le multe anche ZTL ma soprattutto in particolare quelle multe ripetute di cui abbiamo già parlato che hanno magari messo anche in difficoltà alcuni e ai Contenzi a Simu soprattutto quelli che riguardano il cosiddetto il pagamento quando avviene il pagamento dell'imposta su quei terreni edificanti che però non permettono l'edificazione tipo Marina di Ginosa e ovviamente anche per altre situazioni che poi magari si potrebbero valutare successivamente per quanto riguarda invece il concetto sulla Tari mi sento di ribadire quanto già avevo precedentemente sollevato nel bilancio di previsione di maggio 2023 quindi nello scorso bilancio riguardo la cosiddetta società Remuner SRL perché ho verificato infatti che a pagina 60 del DUP riguardo proprio a questa società che è proprio intenzione di questa amministrazione riprendere i contatti e infatti l'ho proprio letto a pagina 60 e prendo anche atto che ci sono sugli ecocompattatori infatti vi ricordo che precedentemente sempre a maggio 2023 avevo sollevato direttamente anche all'assessore Ieli avevo richiesto quando effettivamente gli ecocompattatori sarebbero poi stati messi in funzione mi ricordo che in quell'assise fu individuato un tempo limitato che era semplicemente una questione di energia elettrica però adesso non fa niente nonostante comunque siano comunque dei corsi ancora sei mesi però ho visto che c'è l'intenzione che comunque questo estenuante percorso arriverà a compimento soprattutto per una questione ribadisco di premialità nei confronti di coloro i quali fanno la raccolta questi appunti però sulla remunera SRL e sugli ecocompattatori li sto ribadendo anche in considerazione del fatto che nell'anno 2023 i dati della raccolta secondo le tabelle Ager non sono proprio diciamo dei dati positivi nel senso che rispetto agli altri anni infatti diciamo che la raccolta si aggira ad una percentuale che è inferiore anche a 70% siamo sui 66-65 se analizziamo i diversi mesi alcuni mesi arriviamo anche a 60% di raccolta a tal proposito forse è il caso di incentivare magari le attività di promozione alcune sono state già avviate ma magari continuare quindi con un'informazione un po' più incessante e soprattutto una maggiore promozione poi magari i colliocompattatori con alcune situazioni di premialità potremmo al fine di ottenere ovviamente risultati maggiori dico questo perché successivamente magari si potrebbe avere anche un aumento della Tari a seguito dell'applicazione delle tabelle perché magari potremmo rientrare all'interno di una fascia che prevederà l'aumento degli stessi per quanto riguarda invece l'imposta l'IRPES diciamo ho visto diciamo nella legge di bilancio prevede per i comuni inclusi ah no questo volevo dire un'altra cosa prima Ginosa insieme ad altri 54 paesi della regione Puglia rientra praticamente negli elenchi regionali delle località turistiche nella tassa di soggiorno volevo chiedere se è stato previsto all'interno del bilancio di previsione la possibilità di incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico quindi ovviamente di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive fino ad un massimo di 2 euro praticamente la tassa di soggiorno verrebbe aumentata fino ad un massimo di 2 euro di 2 euro per permettere con quella 2 euro comunque quanto stabilito poi la discrezione dell'amministrazione di versare diciamo di pagare i costi del servizio tari se questo è stato previsto perché la legge di bilancio quindi prevede che i comuni possano applicare questa diciamo se vogliamo chiamarla non sovratassa questa diciamo maggiore imposta sull'imposta di soggiorno quindi questo è per un massimo di 2 euro che permetterà diciamo al comune di poter pagare la tari questo è sempre diciamo per consentire anche maggiore entrate per l'ente poi a pagina 16 del parere dei revisori dei conti e vengo qui all'IRPEF viene fissato l'IRPEF diciamo all'80% è alla 0,80% sostanzialmente quindi rimane invariato rispetto agli anni precedenti e chiedevo poiché abbiamo pagina 12 diciamo della nota integrativa si afferma che ci potrebbe essere poi una riduzione dell'IRPEF per il 2024 questo l'ho letto a pagina 12 della nota integrativa al DUP quindi chiedevo come mai non farlo subito ho verificato anche che il governo centrale con la flat tax ha già diciamo ridotto l'IRPEF di sua competenza e magari quindi sarebbe stato un bel segnale ridurlo subito piuttosto che aspettare però magari chiedo delucidazioni in base a questo soprattutto quindi per far fronte poi ai lavoratori e pensionati e quindi per far fronte soprattutto a questa crisi economica che sta attamagliando le famiglie per quanto riguarda poi le spese PNRR i dati forniti dal progetto Easy Investimenti ha messo in fila i 29 comuni della provincia di Taranto affermando che il comune di Ginosa ha una percentuale di 6,1% di fondi PNRR intercettati mentre vediamo come i comuni di Manduria Saba Massafra che hanno tipo 11,28 11,23 Massafra addirittura 16,27 e ho preso dei comuni che hanno una densità di popolazione simile alla nostra hanno diciamo ottenuto dei risultati migliori come mai chiedo e poi torno a dire come mai poi sempre nel piano triennale delle opere pubbliche vengono indicati anche quei progetti e quei bandi che non sono stati ad oggi finanziati perché in realtà due parole vorrei spenderle su questo il primo è che sappiamo benissimo che la possibile finanziabilità anche futura di questi progetti ad oggi non finanziati sarà resa possibile soltanto a seguito di un accordo tra il ministero diciamo fitto e la regione Puglia senza il quale difficilmente riusciremo ad ottenerli e secondo però volevo dire che c'è però in un'ottica futura è sempre a seguito di una se vogliamo dire opposizione sempre costruttiva possiamo comunque utilizzare altri strumenti perché diciamo qualora gli stessi bandi non sono stati finanziati ma allora c'è volontà comunque dell'amministrazione di portare a compimento delle opere ci sarebbe data una possibilità e ci viene data proprio dalla regione Puglia che insieme a Lanci e alla Cassa Depositi e Prestiti mettono a disposizione dei Comuni una serie di strumenti finanziari per la realizzazione proprio delle opere pubbliche tra cui prestito green fondo rotativo generale il nuovo prestito investimenti PNRR PNC e di servizio di tesoreria ed anticipazione di poste italiane quindi sono magari due strumenti che in un'ottica futura e magari anche imminente potremmo utilizzare per far fronte a quei finanziamenti e quei bandi che ad oggi non siamo riusciti ad intercettare perché appunto non finanziati o per altre ragioni inoltre lei prima ha parlato anche del personale e ha individuato ha detto che stamattina è arrivata una nota del revisore dei conti che indica una serie di indennità e quindi di adeguamento al nuovo contratto di lavoro è sicuramente una cosa assolutamente importante per tutti i dipendenti a proposito di questo chiedo poiché c'è il decreto legge anticipi che prevede per i dipendenti proprio comunali anche precari degli anticipi in busta paga nel rinnovo dei contratti questi anticipi sono proprio chiamati indennità di vacanza contrattuale maggiorata praticamente i comuni possono versare anticipatamente queste somme ai dipendenti e sono state praticamente volevo sapere se questa indennità siccome nell'enunciazione delle indennità individuate nel contratto nuovo normativo non è stata menzionata da lei volevo chiedere se c'è questa possibilità soprattutto quindi per evitare magari contenziosi futuri con eventuali sindacati quindi siccome c'è questa possibilità del decreto legge anticipi chiedevo questo a pagina 12 poi del DUP si parla anche delle ZES e forse non so se è un errore oppure se è un errore soprattutto di interpretazione mia forse va rivista e modificata la parte in cui prevede ancora la candidatura della nostra zona alle ZES perché con la ZES unica non so se c'è comunque sempre un bando di candidatura questo non lo so quindi lo chiedo in questa assise e al di là di questo se sono previste quindi delle agevolazioni per chi usufruisce quindi è inserito all'interno della ZES perché questo dovrebbe essere in realtà il senso di una di far parte di una ZES quindi zona economica speciale e mi rifaccio anche all'altra richiesta che avevo già anticipato prima che riguarda lì musica pannoni industriali e quindi poiché adesso il gettito viene direttamente recuperato quindi dei comuni piuttosto che dello Stato quindi chiedevo se c'era previsione quindi in vista futura questa volontà o comunque se c'è diciamo un'ottica futura questa possibilità di agevolazioni inoltre un'altra domanda che volevo fare era quella che riguarda i servizi socioassistenziali sono stati individuati dei nuovi LAPS che riguarda soprattutto le persone vulnerabili e senza dimora quindi che rientrano proprio in questi livelli essenziali di assistenza delle persone sociali compresi nell'accesso e quindi diciamo vengono individuati dei LAPS e se sono state previste delle somme per il raggiungimento di questi standard proprio per contrastare per il contrasto quindi alla povertà ad esempio vengono compresi l'accesso alla residenza anagrafica e fermoposta e nell'istituzione di centro servizi proprio per il contrasto alla povertà e quindi se sono state previste delle somme proprio quindi per riuscire a raggiungere questi livelli essenziali l'intento ovviamente di questi servizi è quello di facilitare l'accesso all'iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora garantendo loro il diritto ad essere riconosciute come residenti nei comuni dell'ambito poiché il nostro territorio diciamo che ha una situazione che deve essere attenzionata riguardo a questo quindi chiedo se sono state previste delle somme per il raggiungimento di questi nuovi standard questo diciamo riguarda la situazione generale del bilancio e quindi queste interpressità e soprattutto delucidazioni che chiedo inoltre poi volevo sapere abbiamo visto che a pagina 24 del bilancio allora pagina sì la provo subito pagina 23 questa è una una questione più che altro tecnica il collegio dice qui prende atto che alla richiesta dell'ente del 14 19 2023 a mezzo PEC hanno risposto solo 5 settori su 12 pertanto invita i responsabili di settore ad adempere a quanto stabilito dalle norme in materia del decreto legislativo ci chiedevo ma alla fine ci sono state le risposte perché credo che se non so non sono addentrata in tal senso però se se mancano delle risposte cioè su 12 settori ne rispondono 5 non so il bilancio quanto può essere poi attendibile da questo punto di vista o se chiedo incide quindi sull'attendibilità del bilancio quindi facciamo la domanda a questa situazione inoltre prendo anche spunto dalle osservazioni e suggerimenti poi dei revisori che riguarda proprio l'emergenza energetica abbiamo visto come c'è stato il bando quindi sulla bollettazione chiedo se questo bando verrà poi rinnovato negli anni successivi o meno grazie grazie consigliere Gallucci prego prego sessore soltanto ok prego grazie presidente no è più giusto fare così perché così non sfugge niente nell'ottica di dare le risposte giuste alla consigliera allora send lei ha detto che l'utilizzo di send potrebbe dare dei vantaggi noi send lo stiamo già applicando noi abbiamo applicato tutto regolarmente in più vi dico che grazie al reparto di digitalizzazione abbiamo applicato anche un programma specifico applicativo che si chiama nodo dell'advanced system con questo nodo noi riusciamo a monitorare in tempo reale il sistema send e quindi anche i costi e quindi quando dobbiamo fare gli impegni di spesa per l'espedizione e tutto quanto riusciamo a dire in quel momento spingiamo il bottone e ci dice quant'è il costo che dovremmo sostenere e vi dico che infatti poco fa quando sono uscito per la pausa il responsabile Pietro Giancipoli mi ha detto che abbiamo avuto circa 30.000 euro di risparmio e quindi in effetti c'è un qualcosa la digitalizzazione ci porterà dei vantaggi quindi volevo rassicurarla sul fatto che noi stiamo utilizzando abbiamo anche vinto un finanziamento specifico per quanto riguarda il nodo che quindi è un programma applicativo importante che serve proprio a monitorare questi risultati per quanto riguarda i residui è chiaro che tutte queste innovazioni servono ad accorciare come ho detto prima il periodo tra l'accertamento e la competenza dei tributi e quindi servono a migliorare e quindi a diminuire i residui attivi per quanto riguarda le segnalazioni qualificate volevo dire che non funziona come lei stava spiegando cioè la segnalazione qualificata non è un'attività che consente all'ente di segnalare all'organe di guardia di finanza agenzie delle entrate chi non paga le imposte noi lo facciamo già quello è un dato già che viene esisteggiato perché gli F24 vengono monitorati direttamente dallo Stato la segnalazione qualificata che cos'è non è la mera segnalazione di chi non paga quella già esiste ma è una segnalazione dove dice guarda che ci sono quelle persone che fanno un lavoro senza le autorizzazioni cioè sono chi lavora a nero chi ha un capannone chi ha un immobile completamente abusivo e lì anche lì comune ogni un certo periodo fa un monitoraggio delle opere abusive in corso e lo segnala sull'albo pretorio quindi la lotta al contrasto all'evasione tributaria dei nostri tributi comunali non è la medesima non può essere affrontata con le segnalazioni qualificate ma la segnalazione qualificata è una sorta di spionaggio tra virgolette di delazione dove io suggerisco faccio lo spione al governo dicendo guarda che c'è alla guardia di finanza c'è quella persona lì che svolge l'attività nero e anche se a me non mi deve pagare nulla perché magari è un affitto non ha una proprietà e paga la flat tax quindi paga non paga a noi niente di addizionale ma paga esclusivamente la cetovare guarda vai a prenderti questi soldi e mi dai a me perché ti ho aiutato diciamo nell'ottica di questo accertamento se per fare questa opera io lo dico che secondo me ci vorrebbe un settore ben specifico perché non è che si può andare direttamente a fare questa attività anche perché già monitorare le nostre entrate perché il comune che noi abbiamo è complesso e costa di due territori è complicato però nell'ottica di un ampliamento della pianta organica del nostro comune forse ci penseremo per quanto riguarda anche questo ampliamento legge di bilancio l'articolo tra le definizioni agevolate non più di qualche mese fa noi abbiamo applicato le definizioni la rottamazione e la quater quindi vuol dire che prima ci sono state tre agevolazioni applicate abbiamo applicato le ridipendenti quindi nell'ottica del discorso di applicare il saldo e stralcio a livelli edificabili diciamo c'è poca significatività della misura perché le dico che dal monitoraggio fatto dal responsabile dell'area tributi al condono che noi tra virgolette abbiamo fatto la definizione agevolata delle ridipendenti non ci sono molte domande quindi la gran parte di tutti quelli che avevano volontà di definire di chiudere con un abbattimento corposo perché si parla del 40% senza le sanzioni di interessi quindi stiamo parlando di una asola molto bassa perché le sanzioni la raddoppiavano l'imposta si tratta diciamo non dovrebbe avere un grosso risultato certo ci impegniamo a vedere se è possibile applicare questa definizione tenendo presente che la logica di uscire un condono all'anno non è un deterrente per non pagare quindi magari vai a prendere i soldi vecchi e non vai a prendere quelli nuovi perché uno dice tanto uscire il condono e quindi non pagherò quindi secondo noi l'ottica migliore è quella di cercare di diluire la somma e quella di cercare di abbassare piano piano le aliquote e quindi in realtà se voi vedete le previsioni sono in aumento nonostante le imposte sono tutte in diminuzione quindi la politica di abbassare le aliquote è servita anche a essere di più e quindi come tale secondo noi dobbiamo proseguire in questa ottica però la sua segnalazione io la andrò a verificare è una legge nuova è stata appena fatta e vediamo se può essere utile in qualche in qualche altro dato particolare per quanto riguarda gli ecocompattatori lui ha detto bene sono in dirittura di arrivo c'era una questione della connessione della linea internet che aveva delle difficoltà per quanto riguarda l'area della zona PIP i dati della raccolta lei ha segnato un dato importante i dati della raccolta 2023 sono diciamo tra le ricordate peggiori perché è diminuita la raccolta differenziata probabilmente io do diciamo ci sono varie diciamo varie cause per questo aumento però io dico che anche perché ci sono maggiori avventori nel territorio c'è più turismo forse ci sono più persone che vengono a visitare perché chiaramente le persone che producono più immondizie cioè c'è una quantità maggiore probabilmente si vengono da fuori e quindi diciamo che c'è un lato negativo ma anche un lato positivo della questione per quanto riguarda l'aumento dicevo che già l'ho detto l'anno scorso lo dico quest'anno c'è un aumento sostanziale del 30% purtroppo la regione non fa lo Stato e la regione non fanno la loro parte perché non dovrebbero consentire di andare con un mercato libero dove questi soggetti che si occupano dei rifiuti possono mettere le tariffe che vogliono la regione si è impegnata mi ricordo nell'anno 2018-19 a contenere l'aumento della tariffa a 120 euro a tonnellata ma non l'ha mai fatto ci ha fatto andare lontano a Manduria pagando 180 euro a tonnellata quindi se ci mettiamo sempre questi aumenti noi possiamo fare tutti gli concompattatori che vogliamo ma se noi dobbiamo conferire con il doppio della tariffa oppure ci mettiamo l'impurità nell'umido che fanno aumentare ancora di più ciò che paghiamo a Progeva su questi ragionamenti qua le somme sono grosse parliamo di 500-600 mila euro in più che spalmati dai cittadini diventano un grosso peso allora l'unica cosa che noi abbiamo potuto fare noi abbiamo confermato le agevolazioni in bilancio massime che potevamo applicare per tutte le categorie agevolate e abbiamo contenuto l'aumento del 9,60% quindi dopo tantissimi anni ci sarà un aumento del 9,60% della tariffa perché non si può fare altro perché altrimenti dovremmo aumentare il 30% se ci arriveranno delle risorse ripeto andiamo insieme magari a chiederle alla regione allo Stato lo metteremo a vantaggio dei cittadini quindi il conguaglio verrà neutralizzato da queste risorse lo faremo con piacere insieme tassa di soggiorno lei parlava di una maggiorazione di un aumento della tassa di soggiorno si può essere giusto nell'ottica del servizio tariffa aggiuntivo perché i turisti ci portano più rifiuti e quindi nell'ottica diciamo di non far pagare i cittadini di quel di più però è anche vero che tu li vai a disincentivare i turisti quando vai a aumentare la tassa di soggiorno è molto pericoloso il fatto di introdurre una tassa maggiore è una maggiorazione che poi va a raddoppiare perché la tassa di soggiorno nelle strutture ricettive è 2 euro quindi se andiamo a mettere anche altri 2 euro diventano 4 e io la vedo non lo so io non sono tanto d'accordo ma potrei sbagliarmi su questa ottica qua poi parlava della FET TAX allora per quanto riguarda la FET TAX a noi la FET TAX non ci aumenta cioè non possiamo copiare il meccanismo della FET TAX anche per l'addizionale comunale perché la FET TAX toglie le risorse cioè noi non incassiamo le risorse della FET TAX quindi siccome è stato aumentato dal governo il limite delle entrate per entrare nel regime forfettario di 85 mila euro e anche 100 mila euro per non fare scattare dall'anno in corso tutte queste manovre per le piccole e medie imprese che purtroppo dobbiamo subire tra virgolette non ci consentono di ridurre l'addizionale perché diminuisce l'addizionale proprio normalmente l'addizionale che incassiamo l'anno successivo è inferiore a quello dell'anno precedente perché ci sono sempre più micro imprese e quindi micro imprese che applicano un meccanismo che prima era di 30 mila euro come limite soglia oggi 85 mila euro e quindi raccoglie più persone per l'acetolare secca pure lì non prendiamo il che sarebbe diciamo giusto che noi prendessimo quelle risorse perché derivano dal tessuto produttivo quindi dalle seconde case del nostro territorio non prendiamo niente l'acetolare secca la pagano i cittadini allo Stato se non erro l'acetolare secca addirittura è aumentata quest'anno quindi ci sarà pure un maggiore diciamo una maggiore tassazione su quanto riguarda questo questo fatto di fittare le case per uso turistico anche lì ci sarà un ho visto nella finanziaria non un'aggiavolazione ma un peggioramento perché c'è un appesantimento del fatto per chi ha più di 4 appartamenti o anche per chi fitte in maniera turistica gli appartamenti a Giosamarina ci sarà questo monitoraggio ancora più preciso dove c'è un codice identificativo che bisognerà mettere per quanto riguarda i contratti anche per gli affitti brevi e quindi anche quello è un qualcosa che inciderà molto per il nostro turismo e dobbiamo stare attenti a queste dinamiche perché poi si chiede sempre che si facciano i miracoli da parte dell'assessore dell'amministrazione ma poi bisogna vedere anche cosa succede a livello generale e a livello generale queste due queste implementazioni sicuramente avranno non voglio mettere i piedi davanti ma saranno devastanti perché pareti a persone fitteranno a nero perché non vorranno entrare nell'ottica di questo discorso qua trenale delle opere pubbliche lei ha parlato prima del fatto dei finanziamenti PNRR che vengono inseriti le dico soltanto in maniera brevemente che lo schema è predefinito quindi il responsabile del settore ha applicato la normativa del piano trenale quindi ha inserito ciò che dovrebbe essere inserito nello schema tenendo presente che il trenale delle opere pubbliche è un documento dinamico che può essere approvato anche più volte durante l'anno quindi non c'è problema è una fotografia a un certo periodo dell'anno nel quale bisogna dire come stanno le cose però non è ostativo al fatto di portare avanti le opere pubbliche per quanto riguarda la regione e i lanci che ci danno la possibilità di avere delle risorse aggiuntive questo è assolutamente vero abbiamo avuto più volte i contatti con la dottoressa forse Liuzzi si chiama del Cassa Deposito e Presi l'abbiamo avuta anche in provincia grazie al sindaco e ci ha esposto tutte queste queste dinamiche del fondo di rotazione per la progettazione le devoluzioni il prestito green e roba varia chiaramente bisogna dire alle persone che queste risorse sono con interessi quindi chiaramente gli interessi pesano sul bilancio però bisogna ho detto prima che abbiamo una capacità di indebitamento quindi è giusto che venga utilizzato quindi verificare se queste risorse hanno una convenienza economica rispetto ad altre situazioni risorse umane decreto legge anticipi prestiti esterni allora lei diceva la possibilità del decreto legge anticipi per il dipendente di avere un anticipo per quanto riguarda alcune indennità se è previsto in quel documento che abbiamo che abbiamo approvato con i revisori sono due documenti diversi cioè questa possibilità del decreto anticipi è una possibilità generica data ai dipendenti come quando si ottene un anticipo del TFR quindi io che faccio posso chiedere un anticipo all'ente per quanto riguarda una mia indennità che posso avere successivamente quindi assolutamente sì perché la liquidità esiste in bilancio e quindi possiamo anticipare le risorse non c'è alcun problema però il documento di prima è diverso cioè sono quegli istituti previsti dal contratto di lavoro obbligatori oppure ci sono quelli facoltativi che sono oggetto della contrattazione collettiva che viene fatta dal segretario comunale in qualità di responsabile per la delegazione trattante con i sindacati e con le rappresentanze sindacali dei dipendenti comunali quindi ci sta sia un aspetto che l'altro assolutamente non possiamo andare contro una legge dello Stato quindi siamo disponibili a fare questo per il discorso della ZES la ZES unica comunque non esclude delle ZES particolari perché l'ottica della ZES a mio parere non è solo quella degli incentivi che l'idea imposta la ZES unica diciamo ha l'ardire di volerla accentrare tutto quanto il procedimento al ministero e quindi per far sì che sia più veloce dobbiamo vedere se questo è la realtà dei fatti io ben venga se c'è una semplificazione io sono favorevole però il problema che si potrebbe creare su questo fatto della ZES unica è il fatto che non sia più specifica dei territori la ZES invece ionica e quindi noi vorremmo creare una ZES particolare con i comuni vicini ci consente di avere una politica del territorio per territori simili molto più mirata e quindi anche più efficace e non soltanto quella dell'incentivo perché la politica dell'incentivo che appoggia o del credito di imposta non va a far crescere le specificità e le peculiarità di un territorio ma serve soltanto a un imprenditore magari che viene da qualsiasi parte a venire a prendere delle risorse nel nostro territorio anche questi benvengano ci mancherebbe altro però dobbiamo cercare anche di far sì che queste persone restino nel territorio e non se ne vadano dopo che hanno preso le risorse quello che è accaduto nel passato quindi la cassa del mezzogiorno e tutto quello che ne deriva però con questa sua considerazione lei mi ha ricordato una cosa importante che voglio anche dire che è una delibera che abbiamo fatto oggi giunta per la Pianini l'area della Pianini che quindi va proprio nell'ottica di quello che lei diceva la valorizzazione delle aree industriali dismesse quindi volevo dire che con una delibera del 6 dicembre 2023 abbiamo posto le basi della riqualificazione del sito industriale di smesso Pianini in Ginosa per la realizzazione di un'area produttiva paesaggisticamente ecologicamente attrezzata si chiama Pea grazie all'intervento personale del sindaco l'interesse personale del sindaco e dell'assessore Marco Ielli hanno partecipato a Roma con dei colloqui con alcuni imprenditori ci sono delle belle richieste e quindi stiamo cercando di attuare nel nostro territorio un'area importante un'area proprio molto innovativa che quindi va a bypassare tante di questa burocrazia che serve per gli imprenditori per stabilirsi nel territorio quindi ha fatto bene a fare questa domanda perché ci ha consentito anche di dare questa buona perché questa è una bella delibera è un bel risultato che vorremmo raggiungere nel nostro territorio per i servizi social assistenziali i nuovi labs le dico soltanto che cosa nei servizi sociali le do due risultati importanti uno è stato costituito l'ufficio di piano cioè abbiamo inserito altre tre risorse che sono dedicate all'ufficio di piano che è importante perché l'ufficio di piano è un ufficio che si dedica all'ambito e quindi come tale va a contrastare a livello proprio di gruppo di tutti questi comuni il discorso della povertà delle povertà socioeducative quindi l'emergenza sociale il resto lo dice lo stanziamento in bilancio abbiamo detto prima che dei capitoli dei maggiori stanziamenti i maggiori aumenti sono sui capitoli dei servizi sociali 1.800.000 euro di risorse maggiori quindi come tale sicuramente ci saremo anche per quello che lei stava dicendo per la risposta per il discorso che lei ha notato che sul parere c'è scritto che hanno risposto 5 settori su 12 e quindi una presunta tra virgolette non attendibilità dei numeri indicati le volevo dire che il procedimento della predisposizione del bilancio di quest'anno è cambiato quindi esiste un decreto del 15 luglio del MEF che ha previsto la procedura del bilancio tecnico al bilancio tecnico si fanno delle domande ai responsabili quindi le domande a cui si riferiva il collegio di televisione dei conti erano alla richiesta specifica del responsabile economico finanziario che aveva mandato il bilancio tecnico con i capitoli dicendo hai da dire qualcosa di diverso rispetto a quello che io ho predisposto e quindi solo 5 settori su 12 hanno proposto delle variazioni quindi questa è la lottica chiaramente gli altri dati sono attendibili perché sono i dati che erano già predisposti con l'equilibrio del responsabile finanziario quindi ho capito che non è una domanda tendenziosa ma voleva capire come era il meccanismo diciamo di procedura del meccanismo in ultimo l'emergenza energetica abbiamo è stato pubblicato il bando per quanto riguarda il discorso parlare già di un rinnovo subito dopo che lo stiamo facendo oggi non lo possiamo dire perché dobbiamo vedere come si evolvono i capitoli di bilancio chiaramente come abbiamo fatto negli anni precedenti se riusciamo ad avere delle risorse le destineremo cercheremo anche di ruotare perché oggi abbiamo con questo bando se avete notato abbiamo dato non soltanto alle persone che hanno un'isee basso ma abbiamo diviso i settori quindi abbiamo anche dato alle nuove povertà e anche a chi può avere un'isee superiore circa 16 mila euro e quindi è stato anche questo un passo avanti ed è importante mettere in evidenza questo perché insomma fa parte della nostra vita sociale credo di aver diciamo risposto alle sue domande sono comunque a disposizione per altro grazie assessore Gigante mi ha chiesto la parola all'assessore Sanzolino per integrare su alcune risposte alcune domande fatte dal consigliere Carlucci prego assessore si sente sì grazie presidente grazie grazie assessore Gigante volevo semplicemente fare riferimento proprio alla domanda della consigliera Carlucci per quanto riguarda senza fissa dimora allora intanto per legge i comuni devono prevedere una via fittizia quella del nostro comune è via delle galassie quindi qualora ci siano delle persone che non hanno residenza nel nostro comune per far fronte a quella che l'emergenza poi appunto personale della persona stessa diciamo avere questa via fittizia ci permette di poterla aiutare attraverso proprio dei fondi comunali quindi non la lasciamo sola ma assolutamente la aiutiamo quindi ogni comune per legge deve dotarsi di una via fittizia che non esiste da un punto di vista toponomastico ma senz'altro ha le stesse valenza giuridica di quella che è una via che realmente esiste quindi detto questo volevo anticipare questa cosa quindi ringrazio per questa domanda perché ci siamo candidati ad un bando regionale c'è stata con le libera di giunta regionale una manifestazione di interesse per la gestione di progetti pilota di coabitazione sociale per la promozione della cultura dell'abitare sociale ed approvazioni di allegati tecnici e quindi colgo l'occasione per ringraziare gli uffici dei servizi sociali perché ci siamo immersi in questo nuovo progetto che è alquanto sperimentale e una cosa innovativa parliamo di un co-housing sociale che verrà proprio dedicato alle persone senza fissa dimora abbiamo anche identificato ringrazio la giunta per aver concesso questa cosa un immobile in Viale Trieste a Ginosa Marina Maria di Ginosa proprio lì dove è adesso il comando dei vigili siamo stati ammessi siamo stati ammessi come progetto ma non siamo ancora stati finanziati con l'augurio che insomma la regione potrà l'anno prossimo finanziarci però il progetto è stato comunque ritenuto valido inoltre volevo aggiungere che anche il reddito di dignità permette di poter aiutare le persone senza fissa di mura perché le ritiene proprio una categoria protetta e quindi hanno questa agevolazione in più rispetto al reddito di dignità in più come ambito sarà attivato il pronto intervento sociale il PIS però ovviamente i bandi che abbiamo avuto con il PNRR insomma sono stati piuttosto pesanti impegnativi e quindi ovvio che i tempi si sono prolungati però questo il PIS provvederà a dare dignità a chi si ritrova appunto in una situazione di disagio e marginalità e quindi appunto per le persone senza fissa dimora in più con le dimissioni protette quindi sempre tramite diciamo il PNRR si prevede una somma senza fissa dimora con assistenza sanitaria e non avendo una casa appunto nel momento in cui ci saranno delle dimissioni saranno protette e quindi in una struttura direttamente non avendo una casa quindi diciamo che tutto sommato la situazione è sotto controllo grazie grazie assessore ci sono altri interventi consigliere a mangiare ti prego no si può fare la mia è soltanto una domanda per quanto riguarda la copertura per i servizi a domanda individuale non so se è stato omesso perché non non previsto o se è una dimenticanza perché tra questi servizi non c'è il servizio di trasporto cioè lo scuola bussi i servizi a domanda individuale in questa tabella non c'è in effetti non c'è no non c'è mi scusi verbale di deliberazione 2311 2023 non c'è scuola bussi cioè è una una missione non è voluto non è che non faccia più parte delle domande ok volevo dire allora nella tabella nella tabella non c'è però sostanzialmente il bilancio ci sono questo è chiaro cioè il servizio esiste non l'abbiamo abbocato questo voglio dire sì consigliere ti prego per il suo intervento allora assessore io ho preso un po' di appunti durante la sua presentazione del bilancio di previsione sicuramente anche qui non concordo su molti aspetti diciamo che lei considera positivi ma a cui io ho dato invece una lettura una lettura diversa quando si parla di lotta all'evasione lei ha rappresentato un miglioramento anche grazie diciamo alla rottamazione ed altri strumenti che sono stati diciamo istituiti per dare la possibilità a chi non aveva pagato negli anni precedenti di pagare magari senza le sanzioni e quindi soltanto la sorte capitale però da quello che scrivono i revisori dei conti poi io leggo esattamente il contrario perché mentre lei afferma che questi strumenti hanno migliorato la riscossione dei residui attivi invece i revisori dei conti dicono quello che dicono da molti anni insomma che io sono solita leggere nelle loro relazioni allegate ai bilanci o di previsione o rendicontazione e via discorrendo anche quest'anno utilizzano la stessa espressione che mi preme leggere che è quella della improcastinabile e responsabile adozione di misure organizzative tesi a migliorare la capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie quindi mi sembra che anche i revisori non concordino con la sua visione di miglioramento rispetto alla gestione dei residui attivi poi sento tanto parlare di questo avanzo di amministrazione parliamo di un numero che parte da circa 4-5 mili adesso non ricordo però poi abbiamo un po' di somme che devono essere necessariamente vincolate quindi quella che è la parte diciamo libera si aggira intorno ai 500 mila euro che poi in verità è la parte diciamo libera appunto che è quella che può essere utilizzata nel bilancio quando vi si chiede di ridurre le tasse prima sentivo parlare di raschiare il barile pur di cercare trovare diciamo delle risorse poi questo raschiare il barile va in contrasto con un avanzo di amministrazione che invece sembra essere la ricchezza insomma dei nostri borsellini ma poi di fatto si parla di raschiare il barile ma in realtà quello che mi sembra invece è discaricare il barile delle responsabilità da altri soggetti perché prima assessore le sentivo dire che non lo Stato ci ha tolto circa 800 mila euro che adesso dovremmo andare a recuperare e quindi come al solito mi sembra che le colpe sono sempre degli altri e non sono mai di chi sta gestendo e amministrando mi verrebbe quasi da dire ma l'avevo letto già in un altro intervento santo subito l'assessore gigante perché perché i miracoli sembra che li sa fare sembra che tutto vada bene tutto è migliorato tutto funziona le casse sono a posto e anche qualche consigliere della sua maggioranza ha detto ci dobbiamo attrezzare per i miracoli evidentemente i miracoli li sappiamo già fare però non mi riesco a spiegare come mai abbiamo più entrate tributari più entrate da oneri però non si possono poi abbassare di fatto le tasse perché anche quel discorso sull'addizionale IRPEF lei ha fatto riferimento alle imprese però non diciamo che quell'addizionale viene prelevata dai pensionati o comunque dai dipendenti e quindi non omettiamo poi di dire alcune parti del discorso sul turismo ho sentito parlare di 180 mila euro mi sembra una somma veramente piccola rispetto a quelle che sono le potenzialità del nostro territorio scusatemi sia rispetto a Marina di Ginosa sia rispetto a Ginosa e le mie sono semplicemente diciamo considerazioni non sto chiedendo perché piuttosto evidentemente avete fatto una scelta di questo tipo pensando che 280 mila euro per il turismo fossero sufficienti praticamente a momenti spendiamo più per il Natale che per il turismo per quanto riguarda tutta la parte del sociale questa è l'unica parte dove devo dire do sempre diciamo merito ma è anche vero che questa è una parte dove molti fondi vengono proprio al piano di zona che consentono insomma di investire delle somme più importanti nel sociale quindi questo è diciamo un campo dove cerco sempre di criticare con cautela perché è un settore diciamo delicato e dove ovviamente se si riesce a fare meglio e di più benvenga perché stiamo parlando diciamo delle persone che hanno più fragili e che hanno bisogno di essere aiutate un avanzo di amministrazione di circa 500 mila euro probabilmente questi sono i soldi liberi che possiamo utilizzare nuovamente per qualche concerto e per qualche allestimento spero fatto in anticipo l'anno prossimo del Natale perché se facciamo diciamo le somme di quelle che sono le previsioni che abbiamo già diciamo visto spendere durante quest'anno alla fine va a finire che questo avanzo di amministrazione lo si spenda solo per alcune attività e non per tante altre bilancio di previsione approvato 28 dicembre prima mi diceva l'assessore mi ha chiamata in causa perché probabilmente dovevo fare i complimenti ma i complimenti assessore non glieli posso fare perché perché bisogna essere onesti e dire che la normativa è cambiata e dire che soltanto il 21 dicembre è stata riconosciuta la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione e che quindi prima se non avessimo diciamo predisposto il bilancio di previsione probabilmente saremmo stati in gravissima difficoltà per cui adesso che dobbiamo dire che il bilancio di previsione è stato approvato il 31 dicembre per la prima volta nella storia del comune di Girosa mi sembra veramente un eccesso un eccesso perché chiaramente ci si è mossi in anticipo quest'anno perché c'era una legge che non aveva ancora previsto la proroga e di conseguenza bisognava adeguarsi a quanto previsto e disposto dalla legge incassiamo poi di più dalle monte ho sentito ovviamente tutti i cittadini hanno percepito questo maggiore più che incasso e sborso per le sanzioni che hanno preso ed è il minimo che le somme fossero destinate per la manutenzione l'acquisto di cartelli videosorveglianza certo tutte queste voci a cui sono destinati i soldi che entrano appunto dalle sanzioni amministrative e multestradali francamente non so se i cittadini possono confermare che vedano tutto questo investimento da queste somme nel territorio per quanto riguarda invece le tariffe che prima sollecitava anche ad essere onesti nel non dire falsità rispetto ai ticket adesso io non so a quali ticket l'assessore si riferisse però se stavamo o se si riferisse alla mensa i nostri gruppi consigliari hanno sempre parlato di aumento dei costi e no del ticket quindi se qualcuno vuole invertire diciamo i due termini per mistificare la verità è un problema suo però io non ho mai parlato di aumento dei ticket ma aumento dei costi e immagino che l'assessore sappia benissimo quale sia la differenza tra costi e ticket ticket l'ho sempre detto è rimasto invariato ma se i costi del pranzo aumentano quei costi li paga qualcuno e se non lo pagano col ticket vuol dire che quei soldi in più vengono pagati da tutti questa mi sembra una regola di matematica molto semplice parliamo di commissioni qui devo nuovamente lamentare la questione delle convocazioni delle commissioni durante gli orari mattutini abbiamo più volte lamentato la impossibilità di partecipare alle commissioni durante le ore antimeridiane e questo perché chi lavora non riesce sempre a conciliare la propria disponibilità nelle ore della mattina però evidentemente si preferisce che i consiglieri non partecipano così non si ha nulla da dire e nulla da fare così come devo lamentare che il bilancio di previsione sia stato presentato soltanto una settimana prima della sua approvazione quando invece poteva essere discusso in commissione molto tempo prima per dare la possibilità come lamenta lo stesso comitato di frazione una partecipazione perché trovarsi di fronte a un bilancio di previsione già confezionato impacchettato francamente non ci mette nelle condizioni di poter apportare delle modifiche tenuto conto che poi lo stesso collegio di revisori dovrà esprimere un proprio parere su quegli emendamenti per cui la questione della partecipazione inizio a trovare veramente una frase di rito che ci piace mettere come una ciliegina sulla torta ma di fatto non ha nessun riscontro nella realtà perché la commissione fatta una settimana prima della votazione del bilancio francamente non ha nulla di partecipato ma non mette neanche nella condizione di poter condividere eventuali migliorie per quanto riguarda il bilancio di previsione per cui finché l'atteggiamento sarà questo per me presentarsi in commissione per andarsi a prendere semplicemente un giottone di presenza assolutamente non è una cosa che mi appartiene per cui preferisco continuare a lavorare a fare quello che sto facendo piuttosto che perdere tempo in una commissione dove devo come un altro consigliere della maggioranza diceva scroccare un gettone di presenza veramente anche no per quanto riguarda il comitato di frazione purtroppo dobbiamo anche noi confermare che il parere del subbilancio di previsione del comitato di frazione a noi non è pervenuto ne prendiamo visione soltanto stamattina anche su questa lettura del parere del comitato di frazione marinese ho sentito l'assessore esaltare la miglioria rispetto al parere espresso nel maggio sempre di quest'anno corrente francamente vedere tre voti sfavorevoli un astenuto e un voto favorevole non mi sembra assolutamente un parere che in qualche modo dice l'amministrazione bravi soprattutto se si tiene conto che la stessa lamente la ricorrente che ritorna ogni volta è quella di una mancanza di partecipazione condivisione diciamo delle idee e dei progetti quindi in quanto a questo mi sento di condividere pienamente le osservazioni fatte dal comitato di frazione poi per quanto riguarda la raccolta differenziata che è diminuita veramente non posso accettare di sentirmi dire che è diminuita perché probabilmente abbiamo più avventori cioè assessore questa è veramente un'affermazione assurda io ritengo che se ci siano più se ci sono più avventori questo significa che collegato al discorso del turismo di Gino Savarina le persone se si rivolgono diciamo a un B&B piuttosto che un'altra struttura immagino che quella struttura vada a smaltire nel modo corretto l'immondizia di conseguenza sentirmi affermare una frase del genere credo che proprio non si possa accettare rispetto a un maggior numero di avventori poi per quanto riguarda la ZES anche qui stendiamo un velo pietoso perché mi sono sentita dire più volte durante la presentazione del bilancio secondo me secondo me il discorso che qui parliamo è un bilancio di previsione che non è una visione secondo me bisogna avere le idee chiare su quello che si vuole realizzare prima della ZES unica la nostra comunità non era inclusa nelle zone speciali adesso con la ZES unica ci siamo dentro che poi si voglia trovare uno strumento ancora più migliorativo per dare le possibilità alle aziende nel territorio benvenga però ieri Ginosa non c'era oggi Ginosa c'è grazie consigliati per essere Ginosa comincio da quest'ultima frase che mi ha colpito prima Ginosa non c'era ora Ginosa c'è Ginosa c'è sempre stata ci sarà sempre Ginosa è un paese importante non è il governo che stabilisce se Ginosa c'è o non c'è bisogna dare merito che il nostro territorio è un territorio non che non può dipendere dalle altre è un territorio nostro che è autonomo e che ha le sue potenzialità allora per quanto riguarda la ZES io non ho detto nulla in riferimento al bilancio di previsione ho semplicemente risposto a una domanda della consigliera Gallucci che chiedeva se era compatibile una ZES ionica con una ZES unica quindi non volevo assolutamente metterlo in coerenza con il bilancio di previsione non ho voluto assolutamente fare questo forse non è passato bene il messaggio mi dispiace allora ho preso anche qui appunti in modo da dare le migliori spiegazioni quello che posso e devo dire quello che penso non è che posso dire quello che non penso lotta all'evasione allora innanzitutto io non ho detto che i dati sono migliorati perché abbiamo fatto le rottamazioni le rottamazioni le ha fatte il governo noi abbiamo soltanto applicato ciò che il governo voleva fare quello che ho detto io è che la politica è di abbassare le aliquote che è quello che noi abbiamo in effetti fatto noi perché se andiamo a prendere le aliquote del 2011 e quelle di oggi si vede un abisso proprio di pressione fiscale inferiore proprio un abisso ma lo sanno tutti non c'è bisogno che lo dico lo dico sempre io ogni anno che appliciamo l'Imo abbassano sempre di più addirittura ci troviamo pure lo diceva una persona prima e in effetti ce ne accorgiamo che ci sono spesso delle eccedezze in più perché molti non applicano la riduzione faccio un esempio siccome nell'acconto si paga la metà dell'anno precedente molti che fanno pagano la metà dell'aliquota maggiore siccome l'aliquota poi scende vanno a pagare di più gli rimane quel di più che hanno pagato e poi viene scontato nell'anno successivo quindi addirittura questo fatto qua ormai è di dominio pubblico non c'è bisogno che lo diciamo noi per quanto riguarda la questione dei residui lei leggeva il passaggio dei revisori dei conti consigliera ma quello è il passaggio riferito al rendiconto 2022 non è riferito al bilancio 2024 sa meglio di me che i residui si giudicano e si valgono e si quantificano con il rendiconto e non col bilancio e quindi essendo questo vedremo quanto saranno i residui e li metteremo ne discuteremo in maniera serena insieme però la cosa che invece deve mettere all'affronto ora sono i dati della riscossione e i dati della riscossione sono in aumento anche nel bilancio nel rendiconto 2022 si vedeva che c'era una riscossione maggiore tant'è vero il fondo credito che la spia che ci fa capire se abbassano o aumentano le riscossioni è diminuito e quindi se è diminuito sono aumentate le riscossioni i revisori fanno bene perché è sempre bene dare un monito maggiore e non quello di abbassare la guardia e quindi io ringrazio i revisori perché ci stanno addosso non sono collaborativi nel senso che sono un organo di controllo vero e bello e severo e questo è importante per quanto riguarda l'avanzo mi dispiace smentirla sull'utilizzo che lei ne ha fatto per quanto riguarda l'avanzo l'avanzo non lo possiamo utilizzare per i concerti per il Natale e tutto quello che lei stava dicendo oppure per abbassare le tasse perché l'avanzo libero è un qualcosa che si può applicare secondo il dispositivo del Tuel ne parla l'articolo 187,2 e io lo dico la quota libero dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1 può essere utilizzato con provvedimento di variazione del bilancio per le finalità di seguito indicate con questo ordine di priorità quindi c'è una tassativa elencazione degli inizi dell'avanzo libero tra i quali non ci sono quelli che lei ha detto il primo è la copertura dei debiti fuori bilancio la seconda i provvedimenti necessari per la salvaguarda degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari quindi quello che le dicevo prima che lo avremo a disposizione dal primo agosto 2024 per il finanziamento di spese di investimento quello che le dicevo io quindi siccome non ci saranno coperture speriamo perché ci potrebbero essere coperture dei debiti fuori bilancio o prevedimenti necessari per la salvaguarda degli equilibri di bilancio noi lo vorremmo applicare per il finanziamento di spese di investimento e quindi se poi non lo vogliamo applicare per il finanziamento di spese di investimento che ci sono da fare e quindi lo dobbiamo fare per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente quindi non si può utilizzare comunque per le spese in cui lei stava facendo alla E le estinzioni anticipate di prestiti quale possiamo fare ma siccome le stiamo pagando regolarmente senza pagare molti interessi continueremo a pagare le rate normalmente quindi volevo dirle quindi che l'avanzo non è più quello lì poi per riprendere il concetto di prima del trasporto scolastico che non ho ben chiarito prima poi ci ho fatto un attimo mente locale di quello che riguarda il fatto della delibera e qua c'è una disposizione che purtroppo sta scritta e c'è scritta nella delibera c'è scritto che dato atto che il trasporto scolastico secondo una recente pronuncia della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Sicilia deliberazione 178 2018 non è più qualificato servizio a domanda individuale quindi volevo dire che non è nella delibera vi ripeto quello che ho spiegato perché non ci deve essere nella delibera non è una dimenticanza ma il responsabile finanziario non l'ha indicato a giusta ragione perché non è più un servizio a domanda individuale ma deve essere un servizio del bilancio e ci sono le coperture quindi il trasporto scolastico non è stato abrogato abbassare le tasse qua è il punto in cui mi sono annotato che siamo d'accordo siamo d'accordissimo abbassiamo le tasse però deve convenire con me che se ci togono 800 mila euro all'anno dei trasferimenti locali noi non è che possiamo fare i miracoli il tdei spingiamo il bottone e riescono i soldi ci hanno tolto 800 mila euro ci hanno aumentato il servizio dei rifiuti ci hanno aumentato tutti i costi energetici dobbiamo abbassare le tasse lo facciamo ma lo Stato ci deve dare i soldi nostri lo Stato ci deve dare la possibilità di sostenerci invece non sta avvenendo questa finanziaria ha tagliato risorse a dismisura io sono molto deluso purtroppo avrei voluto essere fiero di quello che faceva il governo attuale mi dispiace ma ha deluso profondamente di quello che ha fatto le misure e purtroppo ne pagheremo le conseguenze perché gli enti locali lo ha detto il Presidente Anci De Caro ma l'hanno detto tutti gli enti locali sono stati danneggiati pesantemente speriamo che ci siano delle risorse aggiuntive non il MES ma tutto il resto che debbano essere utilizzate non per quelle opere grandiose che sta spingendo la Lega io chiedo agli altri partiti della maggioranza di governo di farsi sentire perché la Lega sta comandando su tutte le risorse economiche e questo mi dispiace perché sarebbe stato opportuno un maggiore equilibrio e io infatti so che anche Forza Italia in particolare sta pure pensando sta entrando in questa ottica che io sto dicendo quindi abbassiamo le tasse lo facciamo però non ci dovete togliere le risorse non ci dovete aumentare la flat tax ci dovete avere la possibilità di farlo oppure per esempio per quanto riguarda il demanio mi viene in mente questa cosa lo Stato incassa le concessioni demaniali ma i comuni devono pagare le spese di manutenzione delle approdi o di tutte le spese relative al piano spiaggia non è giusto tu incassi e io devo pagare no dobbiamo fare tutto quanto con le risorse allora o ci fai autofinanziare su tutto poi ci dai le risorse per fare le nostre scelte è una mia considerazione sì ma credo che sia abbastanza univoca turismo solo 180 mila euro solo sono tante sono poche mi continuo a chiedere cosa fa l'assessore al turismo io non l'ho ancora capito scusate sto studiando di competenza però il Natale e l'estate spendiamo di più è turismo secondo me è turismo l'unica cosa che vi posso dire che l'ho imparato il primo giorno adesso lo sto imparando giorno per giorno è quello che il turismo lo sport la cultura la socialità sono tutte quante connesse e quindi tutti gli investimenti fatti in tutto questo connessioni 200 mila è turismo sport 180 mila è turismo Natale 65 mila è turismo perché vi posso garantire che negli eventi che sono stati organizzati sia l'estate che nel Natale io ci ho visto tante persone da fuori vi faccio un esempio la mostra dei presepi che è un esempio abbastanza basilare si diceva e abbiamo visto che il 70% dei presepisti sono di fuori Ginosa e quindi vengono tante persone da fuori Ginosa a vedere i presepi esposti dai loro concittadini quindi sembra che ci sia un grandissimo successo tutti gli eventi fatti quel del discorso delle politiche sociali sono molto frequentati anche da persone che vengono da fuori quindi non è vero che non c'è turismo dobbiamo scompare il campo che il turismo sia soltanto andare a vedere la gravina o andare a vedere la spiaggia o godere della spiaggia il turismo è un'accezione più ampia quindi vi prego di ampliare la mente almeno sotto questo aspetto lo abbiamo detto spesso abbiamo cercato di promuovere in maniera sinergica tutti i settori e lo dobbiamo continuare a fare perché è la è la è la politica vincente poi l'assessore continuerà a studiare visto che è impreparato sul settore per quanto riguarda il bilancio approvato il 28 dicembre è stato fatto solo perché la normativa è cambiata magari fosse così il bilancio si approva in automatico se la normativa cambia quindi poteva essere lo potevano fare prima al ministero economia e finanze dicevano che il bilancio scadere il 31 dicembre improvogabilmente da sempre lo facevano e tutti quanti dovevano approvarlo ma purtroppo io mi ricordo di tutti gli anni precedenti che ho 52 anni non l'ho visto una volta approvare il 31 dicembre mi fa piacere che lo dovete dire a me mi sento onorato che me lo state dicendo non è merito mio è merito degli uffici è merito degli uffici assolutamente io non faccio nient'altro sono soltanto presente cerco di essere presente e di dare il meglio che posso delle mie competenze e di spiegare soprattutto ai cittadini quello che accade quindi io dico che il merito è degli uffici tutti quanti insieme perché secondo me il merito dell'approvazione del bilancio il 28 dicembre lo dico io visto che lo devo dire io è merito di una migliore organizzazione e di una migliore programmazione questo è lo avete detto voi ce l'avete sempre tacciata come criticità questa volta non lo potete dire è stato programmato per bene mi dispiace i dati ci dicono questo gli anni precedenti compreso tutti quelli che avete governato voi e tutti quelli che hanno governato prima di voi non l'avete mai fatto è un dato di fatto lo riconosce tutta la popolazione e questa è una cosa che sanno pure le persone mi fa anche piacere perché vuol dire che c'è più trasparenza della macchina amministrativa i numeri li diciamo a tutti diciamo quanto sta in cassa diciamo con molta semplicità tutto quello che accade l'albopletorio i social e tutto a tutto a tutto spiano quindi programmazione maggiore più multe più multe è vero più multe perché ci sono più trasgressioni ma dobbiamo anche dire meno soldi per i parcheggi pagati meno soldi per la mensa meno soldi per i servizi a domande individuale perché per andare all'albergo per andare sulla spiaggia prima ci andavano 20 persone adesso ce ne vanno tre pullman allora dobbiamo dire che per andare alle terne ad abano terne ci vanno tre volte le persone di prima e non pagano niente di più dobbiamo dire che tutti il teatro viene utilizzato da tutte le associazioni e pagano veramente pochissimo molte volte c'è addirittura il patrocino non pagano dobbiamo dire tutto quindi non è che dobbiamo solo fatalizzarci su una cosa e quei soldi entrano nelle casse del comune e vengono utilizzate per fare quelle situazioni lì piano piano verranno fatte tutte e quindi come tale mi piacerebbe che ci fosse una visione più ampia e più completa di tutto quello che abbiamo detto quindi certo sono pagate da tutti gli aumenti ma scusate se aumenta la tariffa dell'energia la pagano tutti i cittadini è una colpa è una colpa dell'amministrazione forse è colpa di chi non ha controllato i prezzi che è lo Stato forse è colpa di chi ha fatto aumentare le tasse di interesse e lo Stato i migliori il governo dei migliori non mi fate entrare in queste ottiche mie personali perché purtroppo devo dire che i prezzi sono aumentati anche per colpa di qualcuno che non siamo sicuramente né i cittadini di Ginosa né l'amministrazione né il Consiglio Comunale aggiungo per quanto riguarda le commissioni diciamo che io l'altra volta fui ammonito che non ero presente mi sono presentato non ho assolutamente c'era la consigliera Mongelli abbiamo parlato in maniera molto serena abbiamo anche condiviso con la consigliera Mongelli delle considerazioni che lei diceva io sono d'accordo con quello che lei diceva l'unica cosa che vi voglio dire è che non possiamo tacciare il fatto che non eravate a conoscenza degli atti mi dispiace ma voi avevate 20 giorni prima avete avuto il 7 dicembre l'ho avuto io come consigliere comunale l'ho avuto io come assessore ma anche tutti i consiglieri comunali avete avuto tutto il fascicolo di bilancio in maniera corretta e completa quindi avete 20 giorni di tempo la vostra qualità ormai l'esperienza che avete fatto in questi banchi vi fa sì che in 20 giorni potete scrivere tutti gli emendamenti che volete potete rifare il bilancio addirittura perché lo potete fare perché siete in grado di farlo potete i 20 giorni sono sufficienti la commissione si è tenuta dopo si è tenuta dopo in quella commissione si poteva presentare qualcosa che avevate studiato nei 13 giorni prima e comunque nessuno vieta di presentare alla commissione dei documenti scritti lo potete fare regolarmente è previsto ormai siamo in un'epoca in cui si può fare tutto con tutto la comunicazione è molto facile finiamo per quindi la garanzia nessuno è stata adotta la garanzia c'è stata secondo il regolamento non l'abbiamo violato comitato di frazione scusate ma io non riesco a leggere se volete lo rileggiamo insieme probabilmente non l'avete ricevuto e quindi non l'avete letto bene ve lo do ve lo do ve lo riguardate non c'è scritto da nessuna parte mancata partecipazione mi dispiace ma non c'è scritto c'è scritto tutt'altro mancata conoscenza dei contenuti di bilano ce l'ho letto prima in maniera precisa letterale lo rileggiamo ve lo faccio rivedere si deve assicurare ai cittadini marinesi e ai diversi organismi sociali di partecipazione e di partecipazione la conoscenza dei contenuti contabili e finanziari con noi metodi partecipativi non è quello che lei stava dicendo prima è un discorso diverso dove io ho detto che mi fa piacere che sono passati da quello che hanno detto l'altra volta che c'era una mancanza di democrazia diretta che è veramente un'offesa pesante cioè è un qualcosa di pesante un giudizio negativo pesante a un fatto di dire che dobbiamo assicurare ai cittadini e quindi ritrovare metodi di partecipazione nuovi cioè in sostanza voglio dire il comitato che poi è il suo ruolo come li coinvolgiamo i cittadini nel capire le cose del bilancio questo è voleva dire terra terra se voi lo vogliamo passare come un parere negativo perché non abbiamo da dire altro sulle cose positive mi dispiace però io non ci sto il comitato di frazione assolutamente dice delle cose giuste il bilancio è in ordine fa molto piacere e quindi credo che sia non è un pauso ma non è manco una criticità e quindi voglio dire perché dobbiamo enfatizzare ciò che non è mi dispiace ma non ci sto completo con l'ultima domanda la raccolta la raccolta peggiore io ho dato la mia chiave di lettura forse ho detto forse è perché ci sono più avventoni nel territorio sono stato tra virgolette aggredito in maniera simpatica dicendo no non esiste proprio una tua chiave di lettura così e vabbè ho capito ma la colpa di chi è la mia cioè la mia la nostra noi buttiamo il mondista di più mi fate capire è colpa del cittadino ginosino è colpa dell'attività economica non lo so diamo la colpa a qualcuno dobbiamo dare la colpa no cerchiamo di trovare cerchiamo di trovare dei meccanismi diversi cerchiamo di andare di spingere lo stato e la regione di ridurre i costi perché i costi sono quello che vanno a incidere di più i rifiuti se ci sono più rifiuti la quantità di rifiuti poi è determinata dai residenti è determinata dagli avventori è determinata dalle attività produttive ma vuol dire che forse le attività produttive lavorano di più forse i residenti consumano di più forse le attività economiche hanno maggiore quantità perché sono più dinamiche allora questo non vuol dire benvenga una maggiore quantità di rifiuti però dobbiamo smaltigli al costo giusto quello che non sta avvenendo è il fatto della calmerazione dei prezzi io non vedo nella finanziaria dello Stato la legge di bilancio e manco della regione nessuna opera nessuna legge che vada a bloccare questa cosa qui sono stati guardati e date delle mancette per quanto riguarda le bollette ma non viene calmerato niente eppure il servizio dei rifiuti è un servizio nazionale e quindi sarebbe giusto che ci sia una parte dello Stato che viene messa a pagare parzialmente la tariffa che noi andiamo a pagare che è aumentata a dismisura a 180 tonnellate era una cosa inaccettabile grazie grazie assessore mi ha chiesto la parola l'assessore Ieri sì buongiorno a tutti vorrei fare innanzitutto qualche chiarimento parto innanzitutto dal discorso di fiuti problema tari aumento tari i costi sono aumentati come anticipava gigante in maniera esponenziale siamo arrivati a dover pagare 120 euro a tonnellate lo smaltimento in discarica a Massafra a 180 euro per poi non portarlo più a Massafra ma portarlo a Manduria quindi con ulteriori costi quindi immaginate che abbiamo avuto degli aumenti di circa il 60% questo è avvenuto anche perché l'agenzia regionale evidentemente non ha funzionato quello era lo scopo dell'agenzia regionale era anche quello che carmina di prezzi controllare avere una sorta di monitoraggio che non è avvenuto di lì ci siamo trovati a questi aumenti che a livello nazionale mediamente nei comuni la tari sta aumentando del 20% con punte del 69% in comuni come Napoli siamo riusciti a mantenerla al 9% perché è vero che è sceso di due punti la raccolta differenziata però è anche vero che proprio per la raccolta differenziata al comune è anche degli introiti quest'anno abbiamo notevolmente aumentato il recupero di plastiche e metalli e quindi su quello abbiamo ricevuto degli introiti che parzialmente hanno pareggiato gli aumenti dell'indifferenziato e dell'umido questo è un altro problema anche qui il problema dell'umido si deve anche fare delle valutazioni in ordine di quello che avviene soprattutto nei mesi estivi noi passiamo da una produzione prograbbite di 30 kg a persona di rifiuti a 55 kg nel periodo estivo quindi anche lì questo è stato fatto un lavoro sia con la polizia ambientale che con gli ispettori ambientali per capire un po' questi picchi da dove derivassero questi picchi non derivano dalle attività diciamo tra virgolette legali quelli possono essere i B&B alberghi diffusi o quant'altro derivano principalmente dagli affitti in nero questo perché proprio perché sono in nero non sono dichiarati e quindi la raccolta differenziata viene fatta proprio con l'abbandono cioè è tutto indifferenziato noi quest'anno abbiamo raccolto tutti ci sono tutto ci sono dei quartieri soprattutto a Marina di Ginosa io parlo del quartiere soprattutto quello del Sottovia Borsellino che veramente critica la situazione lì stiamo scoprendo veramente del non solo ex-sorge un'evasione Tari totale stiamo proprio scoprendo anche proprio delle evasioni Umo delle abitazioni che non risultano da nessuna parte quindi adesso sono già partiti i controlli quindi adesso poi raccogliamo i frutti anche di questo lavoro però è un lavoro che è complicato complesso perché non avendo dati a disposizione ci siamo dovuti creare dei database e quindi adesso li stiamo utilizzando mi allaccio anche al discorso che ho compattatori però prima faccio un passaggio indietro anche l'aumento della produzione dei rifiuti nel nostro comune deriva anche dalla grande della vendita commerciale molti supermercati rivenditori anche all'ingrosso fanno autosmaltimento dei rifiuti questo cosa vuol dire che per dire recuperano plastica cartone tutto ciò che è riciclabile lo danno privatamente quindi hanno un'entrata economica mentre la parte dell'indifferenziato la conferiscono con il comune questo è consentito dalla legge ma fino a un certo punto perché poi ci va a finire sul mood comunale cioè sulla produzione totale dei rifiuti noi paghiamo anche quello che loro incassano quindi anche qua ci sono delle verifiche da fare quindi anche queste sono verifiche molto delicate da fare perché anche a livello nazionale è sorto questo problema queste sono tutte situazioni che si mettono insieme e poi creano almeno per il primo anno uno o due anni un po' di confusione però stiamo mettendo al regime il tutto situazione ecocompattatore anche lì io già in precedenza avevo dato un ultimatum alla ditta anche perché la ditta non è stata pagata perché finché non finisci gli impianti non finiremo gli abbiamo dato solo un acconto sul primo impianto che ancora è questo qua c'era il problema della connessione con la rete e l'abbiamo risolto però finché non mettono in funzione almeno il primo io preferisco portarli a contenzioso e tagliare i ponti anche perché comunque stiamo facendo altri bandi col Corepla e quindi stiamo procedendo a una politica più frammentata nel senso di utilizzare mangiaplastica nei supermercati mangia carta nei supermercati invece di fare grossi ecocompattatori come quelli previsti di sminuzzarli diciamo scusatemi il termine in più attività quindi anche più facile per la gente andare a fare la spesa portare la plastica e comprare acquistare fare gli acquisti in supermercati questa è una politica che ho intenzione di portare avanti nei prossimi mesi ultima cosa il discorso segnaletica statale proprio l'altro giorno è stato fatto l'affidamento alla ditta per l'implementazione è stata fatta una gara piuttosto grossa che oltre 100.000 euro riguarderà via Martiria in Ungheria via Matteotti circombolazione sud per quanto riguarda Ginosa una parte di Ginosa Marina noi a Ginosa Marina adesso abbiamo un grosso problema dei lavori di AQP perché purtroppo finché loro non completano i lavori in maniera integrale per ogni tratto di strada non possiamo fare la segnaletica perché altrimenti sarebbe inutile il problema grosso di AQP è che non può garantire di fare i lavori per dire tutto via la Ioni iniziarlo e finirlo quindi lo deve fare a pezzi e quindi noi adesso da febbraio abbiamo studiato diciamo un modo per poter procedere con la segnaletica e il rifacimento dei manti stradali in concomitanza con la fine di questi lavori anche perché abbiamo preso un grosso finanziamento per quanto riguarda i percorsi ciclopedonali e quindi dobbiamo portarlo avanti e dobbiamo lavorare su questo quindi nei prossimi mesi vedrete i frutti dello stanziamento dei maggiori introiti delle multe stradali che ho capito del 208 che comunque sarà completamente investito su quello la cosa importante c'è anche la tangenziale sud la circonvalanzione sud che è un altro importante traguardo perché sono 30 anni che non si riesce a trovare una dritta in questa situazione e comunque ci siamo riusciti e procederemo anche alla segnaletica e all'ammesso in sicurezza di tutto tratto stradale grazie grazie assessore ci sono altri interventi consiglieremo il chiore grazie presidente allora mi permetto di fare una piccola digressione da quello che poi effettivamente è stato il mio personale contributo e quello della squadra al bilancio rispondendo a ciò che accade praticamente ogni volta in commissione bilancio commissione bilancio io consigliere te le chiedo di mettersi d'accordo con i consiglieri dello stesso gruppo con la consigliera Mongelli con la consigliera Galeotti perché se uno dice è stata convocata tardi non abbiamo il tempo la consigliera Mongelli che è venuta in commissione è stato un dialogo molto cordiale mi viene a dire non ha avuto il tempo di leggere gli atti mettetevi d'accordo perché uno dice una cosa uno dice l'altra fatemi capire che io mi organizzo per quanto riguarda le sedute mattutine io intanto ho trovato molto offensivo la mail che lei mi ha inviato in cui si dice l'ha ripetuto oggi in consiglio che chi lavora non può essere presente la maggior parte delle volte in mattinata dicendomi praticamente io ho presa magari con malizia dicendomi lei presidente consigliera Nelchiore non lavora e quindi lei può essere presente la mattina l'ho trovato un po' offensivo sono uno studente universitario quindi non posso lavorare perché dedico la mia parte del tempo alla cittadinanza al ruolo che svolgo quindi mi dispiace per questa caduta di stile però diciamo che ormai mi ci sto abituando dopo un anno e mezzo detto questo le commissioni sono importanti non si può dare sempre la scusa alle assenze la mattina io come di consueto ogni fine anno ho fatto il conto delle presenze delle assenze dei consiglieri consigliera l'atto sette presenze su dodici cioè sette assenze su dodici in commissione o bilancio io non penso che quelle sette commissioni siano state fatte tutte la mattina quindi un po' di onestà intellettuale quando si parla e magari ci capiamo di più detto questo torno al bilancio Presidente mi scusi per la digressione quest'anno nel bilancio per quanto riguarda le politiche giovanili abbiamo stanziato più del doppio delle cifre del precedente anno e parto con i progetti che sono stati messi a bilancio partiamo con le borse di studio comunali che abbiamo approvato il regolamento a luglio di quest'anno in questi giorni è uscita l'aggregatoria provvisoria per l'assegnazione ricordo che c'erano molti dubbi su questo bando su questo regolamento dubbi fugati perché ci sono state all'incirca tra le 35 e le 45 domande quindi 35 45 persone che rispettavano i criteri quindi si può dire che è stato un successo e penso domani o dopodomani scadranno i termini per i ricorsi e quindi potrà uscire l'aggregatoria definitiva quest'anno abbiamo messo 3500 euro perché era una sperimentazione è andata molto bene abbiamo deciso di raddoppiare le somme per l'anno prossimo stanziando 7000 euro nel capitolo ora poi decideremo in futuro se si tratterà di più borse di studio o aumentare il premio diciamo così l'ammontare della borsa di studio facendo rimanere lo stesso numero poi abbiamo due capitoli che riguardano la consulta comunale dei ragazzi questa mattina abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere la presidente dentro della consulta qui faccio i complimenti perché a 15 anni non ero in grado di spiccicare due parole in croce la ragazza del genere viene in consiglio comunale parla come se fosse a casa sua ed è penso indicativo di cosa possono fare le nuove generazioni abbiamo due capitoli sono stati stanziati 6500 euro per la consulta divisi in 5000 euro per prestazioni di servizi e 1500 euro per acquisto beni le iniziative le ho elencate da presidente quindi evito di ripeterle però sono state molte e per dei ragazzi di 15 14 16 anni non è facile stare dietro alla pubblica amministrazione stanno imparando questo sarà il loro ultimo anno perché poi a ottobre ci saranno nuove elezioni della consulta e penso che abbiano imparato qualcosa e abbiamo dato un contributo alla comunità fino ad ora e continueranno a farlo nei prossimi mesi poi abbiamo i capitoli per quanto riguarda i progetti proattivi delle politiche giovanili qui abbiamo tre capitoli che sono divisi in prestazioni di servizi acquisto beni e contributi che è una prestazione di servizi abbiamo stanziato 8500 euro ora non ricordo la cifra dell'anno scorso ma penso che fosse intorno ai 3000 o 4000 euro però non voglio darvi un dato incerto comunque era molto molto di meno quindi sono fatto un grande passo in avanti e ringrazio anche l'assessore gigante che diciamo che ci trova le risorse ogni anno per poter lavorare e anche l'ufficio poi abbiamo politiche giovanili beni acquisto bene abbiamo 3000 euro e poi abbiamo politiche giovanili contributi da dare ad associazioni o a progetti che risultano interessanti per l'ente e che portano beneficialmente pari a 2000 euro abbiamo anche un capitolo riguardante la sensibilizzazione di contrasto e contrasto alle mafia che penso che sia una tematica cara a noi tutti e guardo il sindaco che comunque fa parte anche del direttivo dell'associazione avviso pubblico sono tematiche importantissime siamo anche stati vincitori di un finanziamento da parte proprio dell'associazione di avviso pubblico pari a non ricordo se 8.900 o 9.800 quindi potrei aver confuso le cifre comunque siamo lì più abbiamo messo dei fondi noi perché è un tema importante ed è giusto che anche attraverso le scuole attraverso il terzo settore nel territorio ginocino si dia importanza a questo tema che sembra molto lontano da noi ma in realtà ci riguarda molto molto da vicino e ci sono delle classifiche che lo dimostrano abbiamo avuto poi il progetto delle costituzioni italiane quest'anno per la prima volta l'amministrazione ha consegnato una copia della costituzione italiana a tutti i miei 18 anni ginosini e alle classi della scuola per rone è andata bene e abbiamo deciso di riproporlo anche l'anno prossimo e abbiamo stanziato i soldi necessari per l'acquisto dei vari kit che non è una spesa eccessiva quindi è giusto fare questo perché i ragazzi devono conoscere devono essere sensibilizzati perché a scuola le volte lo si fa troppo poco quindi il nostro dovere è anche quello di andare a infilarsi in quegli spazi in cui c'è una carenza non dovuta assolutamente ai professori ma anche a dei programmi scolastici che alle volte sono un po' betusti e che dovrebbero essere un attimo implementati su alcune cose e quindi noi cerchiamo di inserirci in queste cose io ho avuto il piacere di parlare con i ragazzi che sono venuti a ritirare una copia della costituzione ed erano entusiasti perché si sono sentiti al centro c'è un ragazzo è stato lì a dirmi io sono venuto perché mi ha scritto il sindaco e il sindaco ha pensato a me l'amministrazione ha pensato a me e quindi queste piccole cose nei ragazzi di 18 anni penso che servano anche a risvegliare un po' di coscienza e aiutarli nel loro percorso di crescita e quando dico loro in realtà dico anche io perché mi metto diciamo non dico ne ho 18 anni mi piacerebbe però sono lì vicino andando avanti abbiamo una notizia fresca fresca di Iuri allora abbiamo stanziato per l'anno prossimo dei soldi per quanto riguarda i progetti di servizio civile che il ministero delle politiche giovani insieme a Danci propone ogni anno alle amministrazioni comunali non solo anche agli enti del terzo settore notizia fresca di Iuri siamo stati presi diciamo è stato accettato il nostro progetto di servizio civile che riguarda lo sportello in forma giovane che è un servizio che nel nostro comune manca da circa 20 anni quest'anno tramite il servizio civile arriveranno quattro ragazzi ora non so dirvi precisamente la data però è uscito ieri il bando di servizio civile per candidarsi e possono candidarsi tutti i ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni quindi 29 non compiuti è una grandissima iniziativa perché sarà un punto di riferimento per i ragazzi faccio l'esempio che finiscono la scuola superiore non sanno cosa fare in quinto superiore si possono rivolgere all'ufficio che gli potrebbe avere delle indicazioni vuoi fare questo percorso universitario c'è questo c'è quest'altro c'è quest'altro ancora vuoi fare un percorso lavorativo la regione Puglia offre questi corsi di formazione il centro per l'impiego a questi posti disponibili quindi penso che sarà una misura che quest'anno sperimenteremo perché sono 20 anni che non si fa e poi magari il sogno è farlo diventare un ufficio in pianta stabile con delle persone dedicate però come diciamo con l'assessore gigante i piccoli passi sono importanti perché aiutano a capire il rischio delle cose e a farle bere detto questo quindi visto che qualcuno forse ci ascolta da casa invito i ragazzi che si vogliono candidare andare sul portale delle politiche giovani del ministero per candidarsi a questo servizio civile perché è una bellissima opportunità e abbiamo estanziato altri soldi per l'anno prossimo nel caso in cui escano altri progetti perché il comune di Girosa è sempre in prima linea per quanto riguarda i servizi civili dato che hanno finito proprio dei ragazzi due mesi fa in un servizio civile e gli altri ragazzi hanno finito proprio due settimane fa quindi li accogliamo con molto 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 piacere e ci diamo una grossissima mano poi quest'anno insieme all'ufficio che ringrazio soprattutto la responsabile dottoressa Maria Carmela Curci abbiamo deciso di stanziare 15 mila euro sui corsi di formazione delle politiche giovanili perché i ragazzi questo qua è soprattutto rivolto ai ragazzi del quinto superiore quarto superiore perché molte volte i ragazzi finiscono la scuola e non sanno scrivere un curriculum non sanno inviare una raccomandata non sanno inviare una PEC non sanno nemmeno cos'è una PEC quindi abbiamo pensato insieme anche a tutta l'amministrazione di fare questi piccoli corsi di formazione che diano delle piccole basi ai ragazzi per poter uscire dal mondo scolastico ed entrare poi in quello che sarà il mondo universitario il mondo lavorativo e insomma dargli una mano fin dove possiamo farlo poi quest'anno con l'assessore Vera Santoro che oggi purtroppo non è presente per motivi di salute abbiamo iniziato un percorso con l'UNICEF io sono stato volontario dell'UNICEF già nel 2016 si è iniziato questo percorso che però per altri motivi si è interrotto anche per mancanza di volontari della stessa UNICEF sul territorio di Gilosa però quest'anno abbiamo deciso di intraprendere questo percorso con il comitato di Taranto per quanto riguarda il riconoscimento di città amica dei bambini e delle bambine che è un riconoscimento importantissimo che dall'UNICEF che non viene dato così a casaccio non basta fare un'iscrizione su un sito o compilare un form per averla ma bisogna fare dei progetti questi progetti ad esempio in questi giorni il 20 novembre abbiamo illuminato la torre orologio di Azzurro proprio per la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia stiamo preparando quello che sarà il regolamento della consulta dei bambini e delle bambine oltre già alla consulta dei ragazzi e delle ragazze istitueremo questa consulta dei bambini e delle bambine che è richiesta da UNICEF per ottenere la certificazione che sarà un progetto all'interno degli istituti scolastici che non abbiamo dati certi ancora in fase di stesura e regolamento però dovrebbe coinvolgere i ragazzi di quinta elementare prima e seconda media però su questo poi mi riservo di dare ulteriori aggiornamenti magari nella commissione competente oltre a questo abbiamo stanziato dei soldi per il baby pit stop che sarebbe un'altra richiesta che UNICEF fa all'ente per ottenere la certificazione che è praticamente un punto dove le mamme con dei neonati che hanno attena partorito possono allattare i bambini quindi si tratta di installare una poltrona un fasciatoio uno scaldavivande in un luogo pubblico uno su ginosa e uno su marina di ginosa in modo tale che in determinati orari ovviamente non si può garantire averlo 24 ore su 24 sarebbe un servizio eccezionale però ci arriveremo a quello però quantomeno in determinati orari garantire che una mamma possa tranquillamente fermarsi allattare il proprio bimbo e poi continuare quello che stava facendo detto questo poi parlo anche dei bandi regionali che insomma quest'anno usciranno ci stiamo già preparando con l'ufficio che ringrazio nuovamente perché sono in previsione di uscire il bando punti cardinali che c'è stata proprio una conferenza di presentazione a copertino da parte dell'assessore regionale in cui hanno spiegato le nuove misure i nuovi criteri e dovrebbe uscire intorno a febbraio-marzo quindi ci stiamo già preparando dato che sarà comunque un bando a sportello e poi per quanto riguarda anche il bando galattica della regione Puglia che è un altro bando fondamentale per le politiche giovanili che ha l'obiettivo di dire non è il ragazzo che deve venire dall'amministrazione o dal comune ma è il comune che deve andare nei luoghi dei ragazzi prenderli e accompagnarli nel loro percorso quindi questo è quello che c'è in previsione ringrazio nuovamente anche l'ufficio affari generali perché politiche giovanili fino a luglio 2023 è stato accorpato all'ufficio cultura sport affari generali da luglio 2023 invece fa parte del settore servizi sociali ambito istruzione quindi ringrazio sia il dottor Bonelli che la dottoressa Curci per la disponibilità e per il lavoro che fanno ogni giorno grazie presidente grazie consigliano Alchior ci sono interventi consiglieriamo ti d'accordo consiglieri vicenda prego grazie presidente no volevo fare giusto anch'io un resoconto dell'anno senza stare a elencare tutti i capitoli diciamo che quest'anno per lo sport per gli eventi sportivi per quello che ne concerne abbiamo stanziato una somma totale di circa 60.000 euro volevo fare un inciso per quanto riguarda il progetto Baschil quest'anno abbiamo donato il nostro progetto all'Anfas la quale ha presentato nel bando pulle cartare sociale il nostro progetto che è stato finanziato quindi ringrazio Anfas per aver dato questa possibilità ai nostri ragazzi un altro inciso voglio fare per quanto riguarda il nostro ormai sentito e voluto galare lo sport voluto dai nostri atleti voglio ringraziare la presenza e l'omaggio che ha dato la minoranza nel presentare ringrazio anche chi per motivi personali non è potuto venire e comunque la vicinanza si è sentita detto questo quest'anno abbiamo inserito come diciamo in via sperimentale una sorta di voucher sportivi per i per i ragazzi in difficoltà quest'anno abbiamo provato abbiamo messo soltanto 4 mila euro ma insieme agli uffici insieme anche alla dottoressa Curci l'anno prossimo faremo un lavoro di squadra tra l'ufficio sport e l'ufficio social per ampliare e dare possibilità ancora più ragazzi di fare sport e di avere un aiuto per praticare sport detto questo ringrazio il lavoro costante dell'assessore degli uffici la macchina dell'assessore qui spesso è parcheggiata anche a notte non è inoltrata però questi sono i risultati e assessore per perseguire un primato questi sono i sacrifici grazie 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 consigliere consigliera mongiorno mi chiesto la prego può parlare al microfono grazie allora io vorrei riprendere un attimo il consigliere quello che ha detto il consigliere Marchionna sulla mia presenza nella nella commissione è vero che ho detto che non avevo avuto il tempo di leggere i documenti ma non perché i documenti fossero in mano mia da 14 giorni perché i documenti non avevo la possibilità di stamparmi l'improprio avevo non per le condizioni finanziarie ma perché non avevo che non si capisca che non ho la possibilità di stamparmi perché non sono attrezzata non ero attrezzata per poterlo fare così come gli uffici ancora non sono attrezzati per darmi la casella di posta elettronica certificata detto per inciso nei vari ringraziamenti faccio anche questo e comunque non avevo avuto la possibilità di leggerli perché con la domenica interposta con altre situazioni già in atto non avevo avuto in tre giorni la possibilità di leggerli e quindi mi riservavo di approfondirli di leggerli per quello che è mia competenza con più calma e di parlarne in consiglio comunale così come lei stesso registrò nel verbale della seduta le cose bisogna dirle per intero o non dirle proprio ci sopra seguiamo così facciamo una migliore figura ma non si dicono in modo falsato perché la verità poi è sempre soggettiva a questo punto non c'è una verità già è difficile dire il vero in assoluto non esiste forse però quando volutamente si dicono che sono in contrapposizione e che ci dobbiamo mettere d'accordo io e l'avvocato nonché il consigliere Galeotti mi dispiace un pochino forma restando la mia simpatia verso il giovane consigliere Marchionna perché io ho sempre lavorato con i giovani quindi figuriamoci se posso avere in antipatia un giovane venente focoso animato di buone intenzioni e che sarà sicuramente una pietra miliare nel consiglio comunale da quando si è insediato e nei tempi a venire fermo restando i ringraziamenti a tutti gli uffici che svolgono notevolmente il loro compito e nella maggioranza dare le indicazioni all'ufficio se quelle che sono le volontà politiche in modo che gli uffici poi trovino come giustamente ha evidenziato il consigliere Marchionna come giustamente ha evidenziato il consigliere Piccenna trovino le risorse per la mediazione del santo subito assessore gigante trovino le risorse per fare sì che il progetto di amministrazione volto all'interesse al beneficio al coinvolgimento dei giovani sia reso fattibile dall'impegno sportivo dall'impegno nei ragazzi che sono ai margini e quindi con il recupero dal disagio benvengano queste iniziative non sarà la mia opposizione contraria a questo modo di fare magari le palestre delle scuole fossero aperte 24 ore su 24 con i vostri progetti con le associazioni di volontariato e si riuscissero a recuperare quelli che le associazioni fanno nel loro piccolo con le poche risorse che hanno sicuramente avrete il plauso se non dovreste avere il plauso della minoranza sicuramente avrete il plauso della popolazione bisogna attivarsi per questo e quindi non è complaccio che siano stati detti anche se non facevano parte della discussione all'ordine del giorno come bilancio e quindi abbiamo un po' sforato su quelle che erano le argomentazioni di rito poi per ritornare alla mia domanda alla quale è stato risposto subito dall'assessore gigante che comunque nel bilancio era prevista la spesa poi ha avuto il tempo di rivedere di consultare di fare e l'ha voltata a Tarantella come se io avessi fatto una domanda fuori dalla logica no assessore gigante mi scusi nelle note integrative al bilancio di previsione come giustamente lei diceva c'è nel bilancio non è un'omissione c'è nel bilancio l'ha detto nella prima risposta nella seconda invece ha detto che andava bene così non doveva essere citato perché non fa più parte delle spese sostenute a domanda individuale bene nel fondo crediti di dubbia esigibilità corrente viene riportato sia i proventi per le quote di frequenza e refezione scolastica che il ticket per il trasporto scolastico quindi è previsto nel bilancio non è stato previsto nella 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 delibera io mi chiedo è compatibile questa cosa che una voce non ci sia in delibera e ci sia nel bilancio lei ha detto sì va bene così grazie avevo altre cose ma non voglio portare se non facciamo a domanda rispondi e qui diventa un battebecco di tutti non credo che sia lo spirito di un consiglio comunale per mia colpa per tua colpa per sua grandissima colpa sua ovviamente mi riferisco a quelli che ci sono stati negli anni passati perché l'attuale ha solo lauree io vedo luce luce dappertutto quando entro in questo consiglio comunale tranne che nei banchi della minoranza buon provvisaccia siamo ancora nella luce del Natale grazie grazie no mancano solo la parola l'amen avremmo chiuso insomma va bene va bene sono detti interventi ho fatto un signore no 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 molto gentile molto gentile mi raccomando no può rispondere può rispondere e vabbè dall'approccio religioso e democratico stiamo passando ad un altro tipo di volevo complimentarmi col fatto che avevo srammatizzato ho capito l'intervento era per srammatizzare non ci sono problemi assolutamente sono tre derivere diverse quindi l'ha capito io volevo fare la tarantella ma sono stato gentile educato e gli ho voluto dare l'informazione nella delibera non ci devesse e lo so no ma vabbè però all'intervento dobbiamo pure a questo dobbiamo pure scherzare un po' perché siamo stati sul pezzo deve capire che io sono anche abbastanza teso perché comunque è la conclusione di un ragionamento che viene fatto un percorso di tutti gli uffici quindi mi sento una responsabilità addosso e quindi è giusto pure che comunque non sono santo perché sono anche diavoletto lo diceva qualcuno prima di stare in consiglio comunale non credo proprio di essere ecumenico va bene grazie 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 ci sono altri interventi prego sindaco grazie presidente buongiorno a tutti non ho avuto voglia di intervenire a diversi punti e credo che la discussione sia importante per far venire fuori tutti gli aspetti positivi e negativi degli atti che stiamo approvando io devo dare atto non per una questione di santità ma per una questione proprio di raggiungimento di un risultato politico non banale all'assessore gigante che è sempre bravo a dare la responsabilità agli uffici però devo dire che la volontà politica in questo caso sia stata determinante nel poter riuscire approvare questo documento di programmazione nei termini e spostare la lancetta temporale di sei mesi che per un anno per un esercizio diciamo di bilancio non è una una cosa banale in avanti e quindi era la possibilità sin dal primo gennaio di poter intervenire attraverso le azioni politiche proprio perché molto spesso ci è capitato in questi anni di mandato di dover dire non potevamo fare quell'impegno perché il bilancio era stato ancora approvato poi vaglielo a spiegare ai cittadini che cosa vuol dire non avere un bilancio approvato oggi noi dobbiamo dare atto di questo risultato raggiunto e dobbiamo dire anche che questo tipo di approccio è un approccio che la nostra bravura deve essere quella soprattutto rivolta agli assessori di far partire quanto prima poi tutte quelle azioni importanti che sono state previste nel programma elettorale sono state programmate e che devono essere attuate devo dire che probabilmente diciamo basterebbe anche degli accessi agli atti per dimostrare questa volontà politica di anticipare i tempi di approvazione del bilancio erano addirittura preventivi a quello del luglio quando è uscita quella nota del MEF una nota del MEF che praticamente erano diciamo delle raccomandazioni così come accade ogni anno c'è stata una prima proroga richiesta da ANCI probabilmente ci saranno altre proroghe proprio perché ci sono molti comuni che non sono in grado di approvare il bilancio di previsione questo diciamo se fosse diciamo se dovessimo imparare anche dagli altri anche il governo sta approvando la manovra di bilancio in questi giorni in queste ore proprio sintomatico del fatto che la quadratura dei conti è una quadratura che non è banale cioè al di là delle tempistiche e del rispetto alle tempistiche poi ci sono degli elementi di contenuto molti comuni non sono in grado di chiudere il bilancio rispetto a così come ha fatto il comune come sta facendo il comune di Uginosa proprio perché non c'è una quadratura sempre dal primo di gennaio io ricordo che ormai da diverso tempo il comune di Uginosa non ricorre all'anticipazione di tesoreria e sempre dal primo di gennaio il comune di Uginosa ormai ha smesso di pagare degli interessi che erano diventati di carattere strutturale perché quello che si verificava è che noi praticamente andavamo sotto dal primo di gennaio già di 4-5 milioni di euro e quindi c'erano degli interessi di carattere strutturale che i cittadini di Uginosa erano costretti a pagare l'assessore gigante ha parlato della tempistica di pagamento delle fatture che è un sintomo ottimo del nostro bilancio e devo dire che da questo punto di vista si è raggiunto negli ultimi anni proprio un approccio diverso anche da parte dei diversi settori che sono stati creati una cosa non banale anzi devo dire che è fondamentale più di qualche giorno fa diciamo noi parliamo con i nostri dipendenti per il rituale scambio di auguri che c'è prima di Natale siamo riusciti a riportare il comune diciamo la pianta organica in comune per ripristinare parzialmente la pianta organica partendo da all'inizio del nostro mandato si superavano le 60-65 unità oggi abbiamo superato le 80 unità il nostro comune dovrebbe avere circa 130 dipendenti quindi con le assunzioni che si stanno chiudendo in queste ore di circa 5 categorie e il concorso che il comune di Ginosa ha mandito per quanto riguarda i tecnici quindi le categorie C e i geometri in cui è prevista l'assunzione di tre categorie per il 2023 e poi ci sono altre categorie per il 2024 io credo che il gap che c'è stato e così è considerato per gli anni venga fortemente ridotto quindi questo io ritengo che sia un grosso applauso per il nostro ente e va dato atto alla volontà politica di lavorare all'assunzione delle agenti di polizia locale lavorare all'assunzione del personale dei servizi sociali che hanno raggiunto il numero di unità pari pari a quello della polizia locale e poi sta facendo quello che serve soprattutto i nostri uffici per poter gestire la realizzazione del nostro piano 3 e le opere pubbliche che sarà fondamentale l'assunzione di queste categorie C detto questo io poi ritengo che si debbano fare anche delle scelte di carattere politico perché se da un lato viene chiesto più sicurezza più contrasto all'abosivismo commerciale all'abosivismo edilizio più contrasto diciamo così più presenza delle forze dell'ordine della polizia locale sul territorio poi se la polizia locale fa la multe non è che possiamo portarli una coppa perché vogliamo mettere delle armi spuntate e gli possiamo far mandare dei bilettini di auguri però ritengo che al di là delle zone a traffico limitato la polizia locale quest'anno abbia fatto un grande lavoro che riguarda il contrasto e io ricordo quello che accadeva negli altri anni su via De Ionio in cui c'era un forte abosivismo commerciale quest'anno io personalmente ho avuto modo di contare fino a tardasera due o tre pattuglie che facevano il lavoro di contrasto nonostante le competenze della polizia locale non siano competenze tali da poter intervenire e gestire l'ordine pubblico altro tema che è stato toccato perché poi su questo bisogna fare un investimento cioè può fare una riflessione sugli investimenti che sono stati fatti se dovessimo fare mettere su un grafico temporale i quantitativi di contributi che sono stati rilasciati al mondo delle associazioni culturali sportive religiose e verificare il trend negli ultimi anni il trend è opinatamente un trend positivo e questo lo possono attestare tutte le associazioni che hanno collaborato con l'amministrazione comunale in questi anni realizzando interventi che sono di diverso tipo ed è una dimostrazione plastica come quando prima si parlava del turismo come quest'anno grazie a degli eventi alla collaborazione che c'è stata con le confraternite la stagione estiva sia la stagione che è durata fino praticamente al metà ottobre in più abbiamo avuto la capacità anche di sfruttare delle occasioni che sono venute dalla regione Puglia di organizzare degli eventi che andavano oltre la stagione estiva in maniera originosa in cui abbiamo constatato che non c'era anche una risposta da parte di attività commerciali che avevano deciso di chiudere proprio andando anche oltre quel termine temporale se dovessimo fare un salto temporale i primi di dicembre c'è stato un grande evento a marina originosa con l'inizio diciamo della stagione natalizia ancora oggi sono in corso attività di cinema teatro e quindi tante attività che stanno portando le persone a vivere soprattutto i più piccoli al vivore in Natale quindi io farei veramente difficoltà a capire cosa è culturale cosa è turistico cosa è sociale e cosa invece sono diverse azioni che messi assieme animano la nostra città e dato che per anni io ho subito la programmazione riferimenti con altri comuni io adesso farei lo stesso esercizio al conto dovrei fare lo stesso esercizio al conto ma non lo faccio perché anziché pensare agli altri in positivo o in negativo io penso ad amministrare sono fortunato perché sono circondato da una squadra che riesce a dare delle risposte e investire su più aspetti rispetto alle cose da fare sono il primo ad essere consapevole di quello che c'è da fare ritornando diciamo per dare dei numeri rispetto anche alla realizzazione perché si parlava anche prima del PNRR far partire la realizzazione dei due assidi di video nei termini è un risultato enorme perché è stata una programmazione del PNRR è stata una programmazione che ha praticamente fatto spogliere gli uffici tecnici dei comuni e riuscire a riportare questi servizi sul territorio senza alcuna differenza tra Ginosa e Ginosa Marina io credo che sia un merito che va dato all'assessore dei lavori pubblici e va dato all'ufficio dei lavori pubblici per essere riusciti ad adempere a questi aspetti cosa non banale sono i partiti di accordo quadro e quindi le diverse manutenzioni che è la cosa che più le persone notano diciamo sono delle cose che stanno andando avanti e andando avanti e ci dà la possibilità di avere questi interventi di manutenzione che occupavano gran parte del tempo nei nostri uffici ci dà la possibilità di poter avere una diciamo un'attenzione diversa rispetto ad opere più importanti su cui dobbiamo muoverci quanto prima è sempre riferito alle opere pubbliche quando poi diciamo l'assessore viene attaccato come se fosse diciamo azioni politiche normali c'è stato negli ultimi nell'ultimo anno un adeguamento dei prezzi per opere pubbliche io faccio riferimento all'area mercatale in cui c'è stato un aumento dei prezzi intorno al 50-60% rispetto all'importo finanziato c'è un aumento dei prezzi per quanto riguarda il progetto esecutivo di Parco Alfieni e parliamo siamo nell'ordine di 400 mila euro c'è un aumento dei prezzi relativo alla realizzazione degli alloggi nell'inizio economico convenzionato più la ristrutturazione della casermetta francese di intorno ai 400 mila euro e poi sulle cifre saremmo più precisi con gli atti sono tutte cifre che attraverso gli adeguati sforzi ci permettono di poter dire di trovare le coperture per questo adeguamento dei prezzi la risposta sarebbe stata così come sta accadendo in altri comuni che per dato gli aumenti dei costi energetici non abbiamo la copertura per poter far partire queste opere quindi l'area mercatale è emblematica di quello che è stato fatto le opere si sono concluse e qui c'è la possibilità di portare investimenti sul nostro territorio c'è una nuova organizzazione nei nostri uffici sempre con soldi comunali e c'è anche lì bisogna poi guardare le somme che indirettamente il comune di Gino si ha gestito rispetto alla questione PNRR è in corso un cantiere gestito dall'Asa di Taranto frutto di un accordo fatto con l'amministrazione comunale con cui venivano cedute determinati immobili acquisiti altri immobili e il cantiere in corso parlo del cantiere di appoggio della X-Pretura in cui c'è la realizzazione di un centro polivalente territoriale per la realizzazione di servizi sanitari io ricordo io ricordo i consigli comunali quando c'era la chiusura dei PPI è in corso un cantiere sempre da parte dell'Asl dove c'è stato un forte interessamento della regione e del consigliere regionale Marco Garante che su questo ha investito molti delle sue risorse nel suo tempo per l'organizzazione di un altro centro sanitario all'interno della struttura di pari palatraso dell'Asl i primi mesi dell'anno prossimo metteremo la prima pietra per realizzazione dell'ospedale di comunità e a tutto questo è seguito diciamo dall'altra parte la realizzazione di alcuni lavori che vedete all'interno della sede comunale per la realizzazione per una caserma per la ponzione locale adeguata agli standard attuali e inizieranno i primi mesi dell'anno prossimo i lavori alla sede dell'ex ospedaletto microsanitario per lo spostamento di alcuni uffici in cui sarà possibile realizzare lo sportello di prossimità quindi realizzazione di uffici proprio perché adesso in questo momento abbiamo l'esigenza di avere più spazio e avere garantire diciamo la rifunzionalizzazione o faccio l'architetto la rigenerazione del centro scott storico attraverso la funzione di queste strutture è partito grazie a un accordo con l'amministrazione comunale il cantiere all'interno del castello normando e io tutte le volte che vado a visitare il cantiere con la sovrintendenza faccio qualcosa sono stupito da quello che c'è all'interno da quello che sta venendo fuori in questo momento è partito il cantiere dei paesaggi costieri che ci permetterà di prolungare il lungo mare e poter portare a termine e questo lo faccio con il massimo dell'astinazione possibile anche in maniera capotica processi di globalizzazione del nostro territorio e realizzazione di piste ciclabrici che sono indicatori che vanno a aumentare la qualità della vita di tutte le classifiche sia ministeriali pubbliche sia persone 24 ore che sono poi standard che vengono riconosciuti quindi sono tutte azioni che sono state previste e che dovranno essere continuate io quello che cercherò di fare con questo bilancio di esercizi è proprio quello di puntare ottimizzare e realizzare al meglio i nostri settori affinché ci sia una risposta più immediata prima su tutti l'aspetto della digitalizzazione del nostro ente su cui secondo me dobbiamo ragionare proprio in termini di servizi e poi cercare di far capire il più possibile ai cittadini i vantaggi che c'è nella digitalizzazione e l'accessibilità che in questo momento è variata rispetto a qualsiasi tipo di servizio di segretaria per me è stata una grossa conquista il fatto che si potessero pagare i diritti di segretaria attraverso il post sembra qualcosa di raggiungibile ma per poter raggiungere questo abbiamo dovuto fare i salti mortali e partito ritornando diciamo all'aspetto prima un cittadino diceva che per quanto riguarda la sua cartella del MIMU ogni anno per dei suoni in una zona di espansione a maria religiosa la sua cartella è intorno agli 833 euro ante diciamo 2016 ad oggi quella cartella è un ottavo di quello che pagava precedentemente e stesso discorso per quanto riguarda la pianificazione urbanistica questo lo tengo per ultimo perché è un rispetto a cui tengo moltissimo e dopo aver fatto partire l'adeguamento del nostro povero paesaggistico regionale territoriale e aver fatto sì che nello stesso piano si adegui a quelli che erano gli strumenti per la tutela del rischio idraulico e del singolo geologico attraverso questa attuazione noi potremmo utilizzare uno strumento diciamo che è partito da qualche giorno quindi lo dico anche alle forze extra consigliari che hanno sollecitato l'amministrazione comunale che la legge è stata promulgata praticamente la settimana scorsa quindi ad oggi non c'è nessuno in comune ma io stavo leggendo la legge regionale proprio per riuscire a far sì che il trasferimento la pereguazione la ristrutturazione di rizia la remunizione e la ricostruzione siano degli strumenti che non includono la qualità della vita nel nostro territorio quindi c'è ancora moltissimo da fare ci sono dei rischi su cui dobbiamo tenere conto come servizi sociali ed è quello che accadrà dal primo di gennaio con la scelta che sono state fatte legittime democratiche da parte del governo di tagliare tutto quello che era stato fatto previsto con il reddito di cittadinanza e dare un assegno di inclusione che praticamente è un terzo rispetto a quello che percepivano i percettori del reddito di cittadinanza che non tiene nemmeno conto del terzo in più che c'è stato come aumento dei costi della vita ad oggi quindi praticamente stiamo dando un bonus e poco più stesso discorso del bonus dell'Inps che c'è stato a giugno quindi secondo me dovremmo andare incontro a un momento che non è un momento favorevole per i territori proprio perché tanti migliaia decine di centinaia di migliaia di persone perderanno il sostegno al reddito e quello che già adesso si sta verificando nel caso di cronaca che stanno aumentando i reati che riguardano il rapile i furti le estorsioni e stanno prendendo piede così come diceva diciamo poi il consigliere il consigliere Mercure la capacità delle mafie di andare a sostenere quelle famiglie che prima sostenevano lo Stato quindi è una question di scelte che sono state fatte e non viene incontro a questo rischio tra le varie voci sempre in termini di sicurezza e sono felicemente contento e chiudo veramente di aver visto la voce relativa al finanziamento sulla sicurezza della videosorveglianza perché è un sistema di videosorveglianza che c'è stato finanziato quindi a cui siamo candidati o va dato atto alla polizia locale di aver portato a termine questa iniziativa che ci permetterà di avere attraverso un'altissima tecnologia ci permetterà di avere un maggiore controllo sul nostro territorio quindi le innovazioni che poi riguardano i progetti innovativi che riguardano l'area della Exiliani poi avremo modo di poterle presentare in termini del merito però io devo dire che con queste azioni si sta dando un vero benvenuto al 2024 fatto di impegno concretezza e diciamo e molta risoluzione rispetto ai tempi che stiamo vivendo quindi io devo dare atto all'assessore gigante di aver spinto moltissimo rispetto a questa iniziativa e devo ringraziare tutta la giunta e i consiglieri che si sono impegnati affinché questi risultati potessero essere raggiunti però e devo anche dare atto che a differenza del passato ci sono le commissioni c'è la consulta c'è la consulta c'è il comitato a Maria di Ginosa tutti organi che o non esistevano o che erano stati soppressi quindi nel bene e nel male gli strumenti di partecipazione attivati da queste amministrazioni comunali sono diversi ed erano diciamo non sono poco paragonabili al passato e del passato non me ne frega nulla no? stesso discorso dicasi per l'aspetto democratico le commissioni la consulta il comitato sono processi di democrazia che uno fa perché ha preso l'impegno con gli elettori se poi lo bagliamo lo istituiamo a tutto questo lo facciamo diventare una questione di gettone di presenza realmente banalizziamo quello che era stato richiesto per tanto tempo e poi vorrei vedere diciamo i comuni quelli più importanti vedere quando avvengono le commissioni se i merari meridiani antimeridiani notturni serali in accordi in accordo con chi io credo che ci sia un impegno che è stato preso l'impegno va a portare avanti nelle modalità previste senza che si sia una banalizzazione dello strumento democratico che prima non c'era e che adesso c'è e noi prendiamo atto facciamo un processo di miglioramento della democrazia del nostro popolo quindi il mio è una constatazione senza alcuna santità non me ne volere assesso lo gigante lo dico con diciamo la setticità dei numeri che ti contraddistingue e questo diciamo per noi per tutta l'amministrazione per tutti i consiglieri significa un maggiore impegno perché di fatto adesso non esiste più la scusa che non è stato ancora significa rimboccarsi le maniche e da tra qualche giorno influenze permettendo diciamo così poter essere subito tutti i momenti operativi quindi grazie per il lavoro svolto e buon lavoro per il mio lavoro ancora da svolgere grazie sindaco ci sono attenti interventi non ci sono interventi consigliera Cabruccio procediamo con il divirazione di voto grazie presidente volevo dire che sono contenta che il bilancio sia stato approvato a dicembre quindi nei termini di legge anche perché ricordo benissimo che quando abbiamo approvato l'ultimo bilancio di previsione non c'era una situazione diciamo idilliaca nel territorio in quanto c'erano delle azioni che non potevano essere effettuate come ha ricordato bene il sindaco prima proprio perché non era stato approvato il bilancio di previsione ricordo anche che durante la discussione feci presente anche questo allo stesso assessore il quale disse sì molto probabilmente quest'anno ci impegneremo e questo diciamo devo dare atto che è stato fatto ma soprattutto per una questione di servizi da offrire alla nostra comunità ed è giusto che il bilancio debba essere approvato entro dicembre in modo che non abbiamo nessun tipo di situazione di stasi e periodo diciamo interconnesso per quanto riguarda faccio giusto un preambolo io spero che con l'inizio del nuovo anno possano cambiare un po' di assetti anche all'interno diciamo della gestione delle commissioni delle capigruppo e anche del consiglio comunale stesso perché abbiamo assistito quest'anno anche ad una serie di discussioni inerenti diciamo alla convocazione delle commissioni siamo partiti diciamo in un modo siamo arrivati ad oggi ad essere in un altro modo questo perché all'inizio c'era molta disponibilità poi diciamo la disponibilità è un po' venuta a mancare poi ci sono state altre situazioni che hanno interrotto diciamo quel dialogo iniziale che si era instaurato e parlo di tutti minoranza e maggioranza ad oggi quindi ci ritroviamo a dover partecipare io parlo per me partecipo a tutte le commissioni ovviamente ci sono dei giorni in cui per questioni lavorative non posso partecipare e lo faccio per il senso di dovere che mi appartiene lo faccio perché la reputo è una questione di rispetto nei confronti delle stesse e nei confronti anche della cittadinanza in generale però ho anche notato che c'è una scusate forse mi sto un po' dilungando però mi piace in questa occasione anche proprio perché dobbiamo anche augurarci gli auguri diciamo di buon anno fare questo resoconto questo riassuro riepilogo ho anche notato che ovviamente cambiando le dinamiche quindi anche le situazioni i comportamenti ci sono state un pochino di apprezzioni in generale io spero che il nuovo anno ci sia un cambio di rotta un cambio di rotta che significhi non sempre sottovalutare o denigrare diciamo d'altra parte o viceversa ma a venirsi incontro ho notato anche in quest'anno perché poi è normale che facendo parte di un assiste comunale sono anche osservando perché riesco a comprendere alcune dinamiche che magari prima a me erano assolutamente sconosciute ho notato come diceva anche l'assessore Gigante che l'amministrazione non è sempre sorda diciamo alle richieste sicuramente magari non l'ammette subito che una proposta può essere bella però poi magari passa un po' di tempo e la realizza quindi il ruolo della minoranza è questo cioè proprio proporre a noi non importa a me non importa in particolare quando la stessa proposta venga realizzata se viene realizzata certo se viene realizzata è bellissimo perché vuol dire che hai dato un contributo perché quello che noi dobbiamo fare in questo consiglio comunale tutti e cerchiamo di fare sempre è quello di dare un contributo per il nostro territorio per i cittadini quindi laddove ci sono delle proposte è bello che ci sia sinergia tra maggioranza e minoranza deve accettare che forse evidentemente quella proposta del Consiglio non era proprio male cioè questo dicevo viene un po' a mancare perché a volte si predilige sempre l'io rispetto alla e non va bene perché non è questione ripeto come ho detto prima non è questione ai di meriti è semplicemente questione di magari valorizzare anche quel piccolo contributo che viene dato diciamo dalla minoranza con questo ritornando al bilancio il bilancio ovviamente sapevo benissimo che è un atto economico è un atto ovviamente finanziario che è composto da una serie di cifre e un bilancio che per quanto mi riguarda considerati diversi capitoli non sempre di stessi possono rappresentare la fotografia diciamo delle reali concretezze dei bisogni ad oggi forse perché in realtà esiste lo strumento della variazione di bilancio che potrà essere utilizzato poi successivamente che potrà sicuramente andare a spostare laddove possibile dei capitoli e quindi delle somme da un capitolo ad un altro sempre nei limiti ovviamente della possibilità e quindi non vanno ad oggi a rispecchiare quanto detto diciamo nonostante comunque le rassicurazioni dell'assessore gigante a quanto detto precedentemente le stesse comunque ad oggi non persistono all'interno del bilancio e quindi mi aspetto che un domani ciò che si è detto in questa assise possa effettivamente essere realizzato ho appreso soltanto ora praticamente del comitato di frazione del parere non favorevole che è stato effettuato diciamo che da un punto di vista tecnico ovviamente il bilancio è in ordine perché ce lo dicono anche i revisori però ho notato anche che c'è una richiesta da parte dello stesso quindi che riguarda i servizi spero che comunque tutti i servizi continuino comunque verso la strada giusta che comunque si facciano opere e che si vada avanti e che si continui diciamo sulla strada che lo stesso assessore oggi in consiglio comunale ha cercato quindi di esplicitarci detto questo il movimento conginosa non parteciperà al voto e abbandona Laura grazie grazie consigliere Gallucci consigliere Alti allora cercherò di essere sintetica anche perché insomma la discussione è stata abbastanza intensa e ricca con un'elencazione anche di tutto quello che si è fatto durante l'anno sembra veramente che siamo in chiusura di un esercizio e non nell'approvazione di un bilancio di previsione mi sarebbe piaciuto sentire anche qualche esempio sul da farsi oltre che su quello che si è concluso e si è fatto non voglio riprendere nuovamente insomma quella che la nostra visione nel senso di abbassamento delle tasse io prima ho lasciato parlare diciamo l'assessore perché ha voluto replicare però le mie non erano delle domande erano delle considerazioni sulla presentazione che l'assessore aveva fatto al bilancio di previsione non stavo chiedendo chiarimenti erano delle mie considerazioni nella non condivisione rispetto a quello che era stato era stato esposto non ho detto al presidente di ovviamente azzittirla perché è un suo diritto comunque esprimere le sue idee però vedo che l'ultima parola deve essere sempre quella dell'assessore è ormai una caratteristica che devo riconoscere all'assessore è quella di riuscirsi a prendere la visibilità dicendo tante volte non dico sempre anche delle cose incorniciate che non sono proprio quelle scritte diciamo nei bilanci oppure nelle leggi per cui concludo diciamo questo questo aspetto diciamo del ti attacco e mi rispondi però un passaggio lo devo fare per quanto riguarda l'intervento fatto prima e poi vado proprio al merito della votazione del consigliere Melchiorre scoprò oggi che scrivere una PEC per giustificare la propria assenza in possibilità di partecipare a una commissione diventa un'offesa evidentemente abbiamo dei modi di comportarci totalmente diversi perché se si scrive che un consigliere che lavora non riesce a partecipare di mattina diventa un'offesa allora scusate adesso per educazione inizierò a non scrivere proprio più perché non non posso partecipare devo anche dire che mentre negli anni passati si usava diciamo fare un passaggio per le vie breve brevi sulla disponibilità dei consiglieri a partecipare vedo invece che oggi senza alcuna considerazione di quelli che sono gli impegni degli altri si decide che una commissione si fa quel giorno a quell'ora senza interessarsi di chi può partecipare e chi non può partecipare ad ogni buon conto devo riconoscere invece che il presidente del consiglio per una commissione che abbiamo fatto il 22 di dicembre quindi qualche giorno prima di Natale ha chiesto la disponibilità ha avuto la disponibilità perché evidentemente erano giornate dove anziché dedicarsi alla famiglia abbiamo comunque sottratto del tempo alle nostre cose per svolgere il nostro dovere e quindi la commissione si è svolta invece il consigliere Melchiorre se ne è andato e non è stato lì con noi a seguire la commissione ma questo a me poco interessa perché evidentemente era mia premura ascoltare ciò che l'architetto in quella sede doveva doveva spiegare per cui la disponibilità se viene chiesta viene anche manifestata però quando dall'altra parte c'è un muro a parte diciamo le smorfie e i mugugni che non fa ma le fa con la faccia il consigliere Melchiorre sta anche nella buona educazione di chiedere se si può concordare una data disponibile e che sia diciamo per tutti favorevole fatto quest'altro passaggio d'ora in poi volete chiedere la disponibilità non la volete chiedere resta diciamo un affare vostro però poi non venite a dire che non c'è collaborazione da parte delle minoranze continueremo a fare il nostro lavoro pungolando perché anche pungolando siamo di simolo alle attività della maggioranza faremo i complimenti quando i complimenti sono da fare per cui non ci sottraiamo a quello che è il nostro dovere per quanto riguarda il bilancio abbiamo già espresso prima tutti gli aspetti che non condividiamo è chiaro che nel bilancio di previsione c'è un programma che trova un riscontro economico e chiaramente qui c'è la volontà politica di chi sta amministrando che ha deciso di fare delle cose e in qualche modo sta cercando di farle per cui noi non condividiamo diciamo questa tipologia di costruzione del nostro territorio però alla fine saranno i cittadini ad esprimere il loro giudizio finale se sono d'accordo o meno sull'operato di questa amministrazione per cui il nostro voto il voto della consigliera Marilisa Mongelli e di mio quindi di Forza Italia è quello di non partecipare al voto e abbandonare l'aula grazie consigliera ragazzi come sempre o prende una decisione o dice le commissioni si fanno in base alla disponibilità dell'assessore del responsabile dell'ufficio oppure la commissione si fa in base alla disponibilità mia me lo faccia capire mi mandi la sua agenda così io dico al responsabile dell'ufficio il sabato pomeriggio alle 18 quando lei è a casa vengo in comune facciamo una commissione come questa cosa quando è stato il 31 maggio non parteciperemo più alle commissioni il mese dopo parteciperemo alle commissioni per tungolare prima ha detto non parteciperemo più alle commissioni per non prenderci un gettone di presenza regalato ora dice che ci deve di nuovo tungolare mi faccia capire perché io da presidente di commissione non ci capisco niente visto che io devo agevolare voi voi agevolate me così io so se devo stare alle vostre dipendenze o alle dipendenze dell'assessore e dei responsabili dell'ufficio sia tributi che ragioneria detto questo il bilancio è un atto che non è scontato approvare nei termini di legge l'ha detto il sindaco prima ci sono comuni che l'hanno approvato se non ricordo male a giugno quello del 2023 noi l'abbiamo approvato a dicembre 2023 quello del 2024 grandissimo lavoro da parte dell'assessore gigante degli uffici come ha detto il consigliere la macchina dell'assessore era in questo comune ad orari improbabili per lavorare per arrivare a questo risultato ed è giusto che si prenda anche i suoi meriti ma come anche tutta la giunta perché il lavoro non è stato banale e anche tutto il consiglio comunale detto questo la lista per bene voterà favorevolmente grazie grazie signor Manchioli consigliere di Cenebre grazie presidente assessore evito di dire di nuovo perché rischiamo veramente che lei escano le ali oggi quindi comunque scherzi a parte grazie per il lavoro sia a lei e agli uffici il gruppo come vedo c'è questa via votare favorevolmente il punto grazie consigliere procediamo con la votazione favorevoli 9 diamo atto che non partecipano a voto e non sono presenti in aula la consigliere Carlucci Latti e Mongelli procediamo con l'immediata eseguibilità favorevoli 9 e diamo atto che consigliere adatti Mongelli Carlucci non partecipano a voto e abbandonano l'aula il punto si ritiene approvato se siamo tutti d'accordo vogliamo procedere con un'altra pausa altri due punti la mozione e le partecipate va bene una pausa sono le 14.45 alle 15 riniziamo a Grazie a tutti. 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 questo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.